Genesi capitolo primo Nel principio il Dio creò i cieli e la terra, e la terra era in forme vuota, e le tenebre copivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre, e Dio chiamò la luce giorno, e le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il primo giorno. Poi Dio disse, ci sia una distesa, tra le acque che separi, le acque dalle acque. E Dio fece la distesa, e separò le acque che erano sotto la distesa, dalle acque che erano sopra la distesa, e così fu. E Dio chiamò la distesa cielo, così fu sera, poi fu mattina, e fu il secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo, siano raccolte in un unico luogo, e apparisca l'asciutto, e così fu. E Dio chiamò l'asciutto, terra, e chiamò la raccolta delle acque, mari. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, produca la terra della verdura e delle erbe che facciano seme, e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura e delle erbe che facevano seme secondo la loro specie, e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il terzo giorno. Poi Dio disse, sian vide i luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni e per le stagioni, e per i giorni, e per gli anni, e servano da luminari nella distesa dei cieli per dar luce alla terra. E così fu. E Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere al giorno, e il luminare minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. E Dio li mise nella distesa dei cieli per dar luce alla terra, per presiedere al giorno e alla notte, e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono, e così fu sera, poi fu mattina, e fu il quarto giorno. Poi Dio disse, producano le acque in abbondanza animali viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E Dio creò i grandi animali acquatici, e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono, e Dio li benedisse dicendo, crescete, moltiplicate, ed empite le acque dei mari, e moltiplicano gli uccelli sulla terra, e così fu sera, poi fu mattina, e fu il quinto giorno. Poi Dio disse, produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie, e così fu. E Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo la sua specie, e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, e sugli uccelli del cielo, e sul bestiame, e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, e Dio disse loro, crescete e moltiplicate, e riempite la terra, e rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del mare, e sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. E ad ogni animale della terra, e ad ogni uccello dei cieli, e a tutto ciò che si muove sulla terra, ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento, e così fu. E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il sesto giorno. Genesi, capitolo secondo Così furono compiti i cieli e la terra, e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno, Iddio compì l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno, e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati, nel giorno che l'Eterno Iddio fece la terra ai cieli. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Iddio non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era alcun uomo per coltivarne il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra, e adacquava tutta la superficie del suolo. E l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. E l'Eterno Iddio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e il cui frutto era buono a mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. E un fiume usciva ad Eden per adacquare il giardino, e di là si spartiva in quattro bracci. Il nome del primo è Pishon, ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove è l'oro. E l'oro di quel paese è buono, qui vi si trovano pure Ebdelio e Lonice. Il nome del secondo fiume è Gihon, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è Idekhel, ed è quello che scorre a oriente della Siria. E il quarto fiume è Leofrate. L'Eterno Iddio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden, perché lo lavorasse e lo costudisse. E l'Eterno Iddio disse all'uomo questo comandamento, Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi l'Eterno Iddio disse, Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenievole. E l'Eterno Iddio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe, e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora l'Eterno Iddio fece cadere in un profondo sonno l'uomo che si addormentò, e presi una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Iddio con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse, Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue ignudi e non ne avevano vergogna. Genesi, capitolo terzo Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Iddio aveva fatti, ed esso disse alla donna, Come? Iddio va detto, Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Iddio ha detto, Non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, No, non morrete affatto, Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò, e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambe due, e s'accorsero che erano ignudi, e cuscirono delle foglie di fico, e se ne fecero delle cinture, e udirono la voce dell'Eterno Iddio, il quale camminava nel giardino sul fare della sera. E l'uomo e sua moglie si nascossero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli disse, Dove sei? E quelli rispose, Ho udito la tua voce nel giardino, e ho avuto paura, perché ero ignudo, e mi son nascosto. E Dio disse, Chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero, del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, La donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, ed io ne ho mangiato. E l'Eterno Iddio disse alla donna, Perché hai fatto questo? E la donna rispose, Il serpente mi ha sedotta, e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Iddio disse al serpente, Perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre, e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Ed io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. E alla donna disse, Io moltiplicerò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figliuoli, e i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, Perché hai tu dato ascolto alla voce della tua moglie, e hai mangiato del frutto dell'albero, circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, Il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere tornerai. E l'uomo pose nome Eva a sua moglie, perché è stata la madre di tutti i viventi, E l'Eterno Iddio fece da Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi l'Eterno Iddio disse, Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano, e prenda anche del frutto dell'albero della vita, e ne mangi, e viva in perpetuo. Perciò l'Eterno Iddio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra onde era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo, e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante, per costudire la via dell'albero della vita. Genesi capitolo quarto Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, Ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui, e Abele fu pastore di pecore, e Caino lavoratore della terra. E avvenne di lì a qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. E Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto, e l'Eterno disse a Caino, Perché sei tu irritato, e perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino disse ad Abele suo fratello, Usciamo fuori ai campi. E avvenne che, quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele suo fratello e l'uccise. E l'Eterno disse a Caino, Dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose, Non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse, Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Or tu sarai maledetto, condannato ad errare lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca, per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. E Caino disse all'Eterno, Il mio castigo è troppo grande perché lo possa sopportare. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo, ed io sarò nascosto dal tuo cospetto e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. E l'Eterno gli disse, Perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte più di lui. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo l'uccidesse. E Caino si partì dal cospetto dell'Eterno e dimorò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. E Caino conobbe la sua moglie, la quale concepì e partorì Enoch. Poi si mise a edificare una città a cui diede il nome di Enoch dal nome del suo figliolo. E ad Enoch nacque Irad, Irad generò Mehujahel, e Mehujahel generò Methushahel, e Methushahel generò Lamech, e Lamech prese due mogli, il nome dell'una era Ada, e il nome dell'altra Zilla. E a Ada partorì Jabel, che fu padre di quelli che abitano sotto le tende presso i greggi. E il nome del suo figliolo era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. E Zilla partorì anch'essa Tubul Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di rame e di ferro. E la sorella di Tubul Cain fu Na'ama. E Lamech disse alle sue mogli Ada e Zilla, Ascoltate la mia voce, moglie di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché m'ha ferito, e un giovine perché m'ha contuso. Se Caino sarà vendicato sette volte, Lamech lo sarà settantasette volte. E Adamo conobbe ancora la sua moglie, ed essa partorì un figlio a cui pose nome Seth, perché ella disse, Iddio m'ha dato un altro figliolo al posto d'Abele che Caino ha ucciso. E anche a Seth nacque un figliolo a cui pose nome Enosh. Allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno. Genesi capitolo quinto Questo è il libro della posterità d'Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e dette loro il nome di Uomo, nel giorno che furono creati. Adamo visse centotrent'anni. Generò un figliolo a sua somiglianza conforme alla sua immagine, e gli pose nome Seth. E il tempo che Adamo visse dopo che ebbe generato Seth, fu ottocent'anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Adamo visse fu novecentotrent'anni, poi morì. E Seth visse centocinque anni, e generò Enosh. E Seth dopo che ebbe generato Enosh, visse ottocentosette anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Seth visse fu novecentododici anni, poi morì. Ed Enosh visse novant'anni, e generò Kenat. Ed Enosh, dopo che ebbe generato Kenat, visse ottocentosquindici anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Enosh visse fu novecentocinque anni, poi morì. E Kenat visse settant'anni, e generò mahalalil. E Kenat, dopo che ebbe generato mahalalil, visse ottocentosquarant'anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Kenat visse fu novecentodieci anni, poi morì. E mahalalil, dopo che ebbe generato mahalalil, visse ottocentosquarant'anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che mahalalil visse fu ottocentosquarant'anni, poi morì. E Jared visse centosquantad'anni, e generò Enoch. E Jared, dopo che ebbe generato Enoch, visse ottocent'anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Jared visse fu novecentosquantad'anni, poi morì. Ed Enoch visse sessantacinque anni, e generò Mettuselat. Ed Enoch, dopo che ebbe generato Mettuselat, camminò con Dio trecent'anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Enoch visse fu trecentosquantacinque anni, ed Enoch camminò con Dio, poi disparve, perché Dio lo prese. E Mettuselat visse centoottantasette anni, e generò Lamec. E Mettuselat, dopo che ebbe generato Lamec, visse settecentottantadue anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo di Mettuselat visse fu novecentosquantanove anni, poi morì. E Lamec visse centottantadue anni, e generò un figliolo, e gli pose nome Noè, dicendo, Questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani, cagionata dal suolo, che l'Eterno ha maledetto. E Lamec, dopo che ebbe generato Noè, visse cinquecentovventicinque anni, e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Lamec visse fu settecentosquantasette anni, poi morì. E Noè, all'età di cinquecent'anni, generò Sam, Cam e Japheth. Genesi, capitolo sesto Or, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra, e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle, e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. E l'Eterno disse Lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi centovent'anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliole degli uomini, e queste fecero loro dei figlioli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse Io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro, ai suoi tempi. Noè camminò con Dio, e Noè generò tre figlioli, Sam, Cam e Japheth. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza, e Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta perché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè, Nei miei decreti la fine di ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Ecco io li distruggerò assieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze, e spalmala di pesce di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti, e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto, e le darai le dimensioni di un cubito. Metterai la porta da un lato, e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo, e un terzo piano. Ed ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita. Tutto quello che è sopra la terra morrà. Ma io stabilirò il mio patto con te, e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie, e le moglie dei tuoi figlioli con te. E di tutto ciò che vive d'ogni carne, fanne entrare nell'arca due d'ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due d'ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. E tu prenditi d'ogni cibo che si mangia, e fatene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. E Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Genesi capitolo settimo E l'Eterno disse a Noè, Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché t'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione. D'ogni specie di animali puri, prendine sette paia, maschio e femmina, e degli animali impuri, un paio, maschio e femmina. E parimente, degli uccelli dei cieli, prendine sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti e sterminerò di sulla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. E Noè fece tutto quello che l'Eterno gli aveva comandato. Noè era in età di seicent'anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. E Noè coi suoi figliuoli, con la sua moglie e con le mogli dei suoi figliuoli, entrò nell'arca per scampare dalle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, e a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato. E al termine dei sette giorni avvenne che le acque del diluvio furono sulla terra, l'anno seicentesimo della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cateratte del cielo s'aprirono, e piove sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. In quello stesso giorno, Noè, Sam, Cam, e Njapheth, figliuoli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figliuoli con loro, entrarono nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie, e tutto il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutto quel che porta ali. D'ogni carne in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano, maschio e femmina, d'ogni carne, come Dio aveva comandato a Noè. Poi l'Eterno lo chiuse dentro l'arca, e il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu elevata in alto in sulla terra, e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque, e le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti, e le montagne furono coperte, e per io ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta striscianti sulla terra, e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta, ed aveva alito di vita nelle sue narici, morì, e tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, furono sterminati di sulla terra, non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra per centocinquanta giorni. Genesi, capitolo ottavo Ori Dio si ricordò di Noè, e di tutti gli animali, e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca, e Dio fece passare un vento sulla terra, e le acque si calmarono, e le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse. E cessò la pioggia dal cielo, le acque andarono del continuo ritirandosi di sulla terra, e alla fine di centocinquanta giorni cominciarono a scemare. «E nel settimo mese, il decimo settimo giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne di Ararat, e le acque andarono scemando fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti, e in capo a quaranta giorni Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca, e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono asciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba, per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. Ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede, e tornò a lui nell'arca, perché c'erano delle acque sulla superficie di tutta la terra, ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca, e aspettò altri sette giorni. Poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca, e la colomba tornò a lui verso la sera, ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo, onde Noè capì che le acque erano scemate sopra la terra, e aspettò altri sette giorni. Poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più a lui. L'anno seicentesimo primo di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra, e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. E il secondo mese, il ventisentesimo giorno del mese, la terra era asciutta. E Dio parlò a Noè, dicendo, Esci dall'arca tu e la tua moglie e i tuoi figlioli e le mogli dei tuoi figlioli con te. Fa uscire con te tutti gli animali che sono te, codogni carne, uccelli, bestiame, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché abbondino sulla terra, e figlino molteplicando sulla terra. E Noè uscì con i suoi figlioli e con la sua moglie e con le moglie dei suoi figlioli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quel che si muove sulla terra secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. E Noè edificò un altare all'Eterno, presse d'ogni specie d'animali puri e d'ogni specie d'uccelli puri, e offrì olocausti sull'altare. E l'Eterno sentì un odor soave, e l'Eterno disse in cuor suo, Io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto, finché la terra durerà, sarà sementa e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, e non cesseranno mai. Genesi, capitolo nono E Dio benedisse Noè e i suoi figlioli, e disse loro, Crescete, moltiplicate e riempite la terra, e avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in poter vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove da vita vi servirà di cibo, e io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue, e certo io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto ad ogni animale, e chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano ad ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a immagine sua. Voi dunque crescerete e moltiplicate, spandetevi sulla terra e moltiplicate in essa. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figlioli con lui, dicendo, Quanto a me, ecco stabilisco il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo voi, e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dell'arca a tutti quanti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi e nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. E Dio disse, Ecco il segno del patto che io fò tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni a venire. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole e io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente ed ogni carne e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio ed ogni essere vivente di qualunque carne che è sulla terra. E Dio disse a Noè, Questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. E i figlioli di Noè che uscirono dall'arca furono Sam, Cam e in Giafet e Cam è il padre di Canaan. Questi sono i figlioli di Noè e da loro fu popolata tutta la terra. Or Noè che era agricoltore cominciò a piantare la vigna e beve del vino e si inebriò e si scoperse in mezzo alla sua tenda. E Cam padre di Canaan vide la nudità del padre suo e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sam e in Giafet presero il suo mantello se lo misero assieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre e siccome avevano la faccia volta dalla parte opposta non videro la nudità del loro padre. E quando Noè si svegliò dalla sua ebrezza seppe quello che gli aveva fatto il suo figliolo minore e disse Maledetto sia Canaan sia servo dei servi dei suoi fratelli e disse ancora Benedetto sia l'Eterno lì Dio di Sam e sia Canaan suo servo e Dio estenda Giafet e Daviti e lì nelle tende di Sam e sia Canaan suo servo e Noè visse dopo il diluvio trecentocinquant'anni e tutto il tempo che Noè visse fu novecentocinquant'anni poi morì. Genesi capitolo decimo Questa è la posterità dei figlioli di Noè Sam Cam e Japheth e a loro nacquero dei figlioli dopo il diluvio e i figlioli di Japheth furono Gomer Magog Madai Javan Tubal Meshesh Tirass e i figlioli di Gomer Ashakenaz Rifat Togarm e i figlioli di Javan Elisha Tarsis Kittin e Dodanim da essi vennero i popoli sparsi nelle isole delle nazioni nei loro diversi paesi ciascuno secondo la propria lingua secondo le loro famiglie nelle loro nazioni i figlioli di Cam furono Cush Mitzray Tut e Canaan i figlioli di Cush Seba Avila Sabda Rahama Sabteca e i figlioli di Rahama Sheba e Dedam e Cush generò Nimrod e cominciò ad essere potente sulla terra ed egli fu un potente cacciatore nel cospetto dell'Eterno perciò si dice come Nimrod potente cacciatore nel cospetto dell'Eterno e il principio del suo regno fu Babel Erek Acal e Cane nel paese di Cinear e da quel paese andò in Assiria ed edificò Ninive Re Obot Hir in Calat e fra Ninive e Calat resen la grande città Mitzray generò Ludim e Ananim e Leabim e Neftuhim e Bartrusim e Calfluhim dove uscirono i Filistei e Kaftorim Canam generò Sidon suo primogenito e Neth e Gevusei gli Amorei i Girgasei gli Ifei gli Archei i Sinei gli Arvatei e Tsemarei gli Amatei poi le famiglie dei Canei si sparsero e i confini dei Canei andarono da Sidon in direzione di Gerar fino a Khazar e in direzione di Sodoma Gomorra Adma Siboim fino a Lesha questi sono i figlioli di Cam secondo le loro famiglie secondo le loro lingue nei loro paesi nelle loro nazioni anche a Sam padre di tutti i figlioli di Eber e fratello maggiore di Japheth nacquero dei figlioli i figlioli di Sam furono Elam Asur Arpachshad Lud e Aram e figlioli di Aram Hus Hur Geter e Bash e Arpachshan generò Shela e Shela generò Eber e da Eber nacquero due figlioli il nome dell'uno fu Peleg perché ai suoi giorni la terra fu spartita e il nome del suo fratello fu Jogtan e Jogtan generò Almodad Shelef Ursarmavet Geram Odoram Uzzam Dicla Opal Abimeal Sheba Ophir Avila e Jobab tutti questi furono i figlioli di Joghat E la loro dimora fu la montagna orientale da Mesha fino a Sephar Questi sono i figlioli di Sem secondo le loro famiglie secondo le loro lingue nei loro paesi secondo le loro nazioni Queste sono le famiglie dei figlioli di Noè secondo le generazioni delle loro nazioni e da essi uscirono le nazioni che si sparsero per la terra dopo il diluvio Genesi capitolo undicesimo Or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole e avvenne che essendo partiti verso l'Oriente gli uomini trovarono una pianura nel paese di Sinea e quevi si stanziarono e dissero l'un l'altro Or su facciamo dei mattoni cosciamoli col fuoco e si valsero di mattoni invece di pietre e di bitume invece di calcina e dissero Or su edifichiamoci una città e una torre di cui la cima giunga fino al cielo e acquistiamoci fama onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra e l'Eterno discesse per vedere la città e la torre che i figlioli degli uomini edificavano e l'Eterno disse Ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio e questo è il principio del loro lavoro ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che ti segnano di fare Or su scendiamo e confondiamo quevi il loro linguaggio sì che l'uno non capisca il parlare dell'altro così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra ed essi cessarono di edificare la città perciò a questa fu dato il nome di Babel perché l'Eterno confuse quivi il linguaggio di tutta la terra e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra questa è la posterità di Sam Sam all'età di cent'anni generò Arpachat due anni dopo il diluvio e Sam dopo che ebbe generato Arpachat visse cinque cent'anni e generò tre figlioli e figliuole e Arpachat visse trentacinque anni e generò Scela e Arpachat dopo aver generato Scela visse quattrocent'anni e generò figliuoli e figliuole Scela visse trent'anni e generò Eber e Scela dopo aver generato Eber visse quattrocentotre anni e generò figliuoli e figliuole Eber visse trentaquattro anni e generò Pelec ed Eber dopo aver generato Pelec visse quattrocentotrent'anni e generò figliuoli e figliuole Pelec visse trent'anni e generò Reu E Pele dopo aver generato Reu, visse duecentonove anni e generò figlioli e figliole. Reu visse trentadue anni e generò Serrug. E Reu dopo aver generato Serrug visse duecentosette anni e generò figlioli e figliole. Serrug visse trent'anni e generò Nahor. E Serrug dopo aver generato Nahor visse duecent'anni e generò figlioli e figliole. Nahor visse 29 anni e generò Tera, e Nahor, dopo aver generato Tera, visse 119 anni e generò figliuoli e figliuole. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Ahor e Haram, e questa è la posterità di Tera. Tera generò Abramo, Nahor e Haram, e Haram generò Lot. Haram morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese nativo, in Ur dei Caldei. E Abramo e Nahor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai, e il nome della moglie di Nahor, Milca, che era figliuola di Aram, padre di Milca e padre di Isca. E Sarai era sterile e non aveva figliuoli. E Tera prese Abramo, suo figliuolo, e Lot, figliuolo di Haram, cioè figliuolo del suo figliuolo, e Sarai sua nora, moglie di Abramo, suo figliuolo, e uscirono assieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Karam. E giunti a Karam, dimorarono quivi. E il tempo di Tera fu 205 anni, poi Tera morì in Karam. Genesi, capitolo dodicesimo Or l'Eterno disse ad Abramo, Vattene nel tuo paese, e dal tuo parentato, e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. E io farò di te una grande nazione, e ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Karam, e Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot figliuolo del suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Karam, e partirono per andarsene dal paese di Kana, e giunsero nel paese di Kana, e Abramo attraversò il paese fino al luogo di Sighem, fino alla quercia di More. Or, in quel tempo, i Cananei erano nel paese, e l'Eterno apparve da Abramo e disse, Io darò questo paese alla tua progenie. Ed egli edificò qui un altare all'Eterno che gli era apparso. E di là si trasportò verso la montagna a oriente di Beto, e piantò le sue tende a vento Beto a occidente, e Ai ad oriente, e qui vi edificò un altare all'Eterno, ed invocò il nome dell'Eterno. Poi Abramo si partì proseguendo da un accampamento all'altro verso mezzogiorno. Or venne nel paese una carestia, ed Abramo scese in Egitto per soggiornarvi perché la fame era grave nel paese. E come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie, Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto, e avverrà che quando gli egiziani ti avranno veduta, a diranno, ella è sua moglie, e uccideranno me, e a te lasceranno la vita. Te, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mia sia conservata per amor tuo. E avvenne che quando Abramo fu giunto in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella, e i principi di Faraone la videro e la lodarono dinanzi a Faraone, e la donna fu menata in casa di Faraone. Ed egli fece del bene ad Abramo per amore di lei, ed Abramo ebbe pecore, buoi, e asini, e servi, e serve, e asine, e cammelli. Ma l'Eterno colpì Faraone la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora Faraone chiamò Abramo e disse, Che mai tu fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto, e mia sorella, ond'io me la son presa per moglie. Or dunque, eccoci la tua moglie, prenditela e vattene. E Faraone diede alla sua gente ordini relative ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie, e tutto quello che i possedeva. Genesi, capitolo tredicesimo Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie e con tutto quel che possedeva, e con Lot, andando verso il mezzogiorno di Canaam. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal mezzogiorno fino a Petro, al luogo dove da principio era stata la sua tenda fra Petro e Ai, luogo dove era l'altare che gli aveva fatto da prima, e qui vi Abramo invocò il nome dell'Eterno. Or Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende, e il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi assieme, poiché le loro facoltà erano grandi ed essi non potevano stare assieme. E nacque una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Feresei abitavano a quel tempo nel paese, e Abramo disse a Lot, De, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta esso davanti a te? De, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. E Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gamorra. Essa era tutta quanta irrigata, fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. E Lot si scelse tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Cana, e Lot abitò nelle città della pianura, e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Or la gente di Sodoma era scelerata e oltremondo peccatrice contro l'Eterno. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, Alza ora gli occhi tuoi e mira dal luogo dove sei a Settentrione, a Mezzogiorno, a Oriente e a Occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua progenie in perpetuo, e farò sì che la tua progenie sarà come la polvere della terra, in guisa che, se alcuno può contare la polvere della terra, anche la tua progenie si potrà contare. Levati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io te lo darò. E allora Abramo levò le sue tende, e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono in Ebro, e qui vi edificò un altare all'Eterno. Genesi, capitolo quattordicesimo Ora venne al tempo di Amrafel, re di Sinear, Dariok, re di Elassar, e di Kedorlaomer, re di Elam, e di Tidea, re di Goim, che si mossero guerra a Bera, re di Sodoma, e a Birsha, re di Gomorra, e Sinear, re di Adma, e Shamabe, re di Zaboim, e re di Bela, che è Tsoar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Sidim, che è il Mar Salato. Per dodici anni erano stati soggetti a Kedorlaomer, e il tredicesimo anno si erano ribellati. E nell'anno quattordicesimo, Kedorlaomer e i re che erano con lui, vennero e sbaragliarono i refei a Ash-Sherod-Karmaym, e gli Zuzsei-Aham, gli Emei nella pianura di Karyathahim, e gli Orei nella loro montagna di Seir, fino a El-Paran, che è presso al deserto. Poi tornarono indietro e vennero a Em-Mishpat, che è Cades, e sbaragliarono gli Amalekiti su tutto il loro territorio, e così pure gli Amorei che abitavano a Ezza-Sontamar. Allora il re di Sodoma, e il re di Gomorra, e il re di Adma, e il re di Zeboim, e il re di Bela, che è Tsoar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Sedim, contro Kedorlaomer, re di Elam, Tider, re di Goim, Amrafer, re di Shinear, e Ariok, re di Elasar. Quattro re contro cinque. Or la valle di Sedim era piena di pozzi di bitume, e i re di Sodoma e di Gomorra si dettero alla fuga e vi caddero dentro, e quelli che scamparono fuggirono al monte, e i vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra e tutti i loro viveri, e se ne andarono, e presero anche Lot, figliuolo del fratello di Abramo, con la sua roba, e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma. E uno degli scampati venne a dirlo ad Abramo, l'ebreo, che abitava nelle querce di Mamre, l'amoreo fratello di Escol, e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. E Abramo, com'ebbe udito che il suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servitori nati in casa sua, ed inseguì i re fino a Dan, e divisa la sua schiera per assalerli di notte. Egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Hobad, che è a sinistra di Damasco, e recuperò tutta la roba, e rimanò pure Lot suo fratello, la sua roba, e anche le donne e il popolo. E com'egli se ne tornava dalla sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shavet, che alla valle del re. E Melchisedec, re di Sale, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote dell'Iddio Altissimo, ed egli benedisse Abramo dicendo, benedetto sia Abramo dall'Iddio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia l'Iddio Altissimo, che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Ed Abramo gli dette la decima ad ogni cosa. E il re di Sodoma disse ad Abramo, dammi le persone e prendi per te la roba. Ma Abramo rispose al re di Sodoma, Ho alzato la mia mano all'Eterno, all'Iddio Altissimo, padrone del cielo e della terra, giurando che non prenderei neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto quel che appartiene a te, perché tu non abbia a dire, io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti in Meco, Aner, e Scoo, a Mamre, essi prenderanno la loro parte. Genesi capitolo quindicesimo Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, Non temere, O Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse, Signore Eterno, che mi darai tu? Poiché io me ne vo senza figlioli, e chi possederà la mia casa è Elisier di Damasco. E Abramo soggiunse, Tu non m'hai dato progenie, ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà il mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E l'omeno fuori gli disse, Mira il cielo, e conta le stelle se le puoi contare. E gli disse, Così sarà la tua progenie. Ed egli credetti all'Eterno che gli contò questo come giustizia. E l'Eterno gli disse, Io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possega. E Abramo chiese, Signore Eterno, da che posso io conoscere che lo possederò? E l'Eterno gli rispose, Pigliami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, e un montone di tre anni, una tortora e un piccione. Ed egli prese tutti questi animali, li divise per mezzo, e posse ciascuna metà di rimpeto all'altra, ma non divise gli uccelli. Orde gli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. E sul tramontare del sole un profondo sonno cadde sopra Abramo, ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cadde su lui. E l'Eterno disse ad Abramo, Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per quattrocent'anni. Ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze, e tu te ne andrai in pace ai tuoi padri, e sarai sepolto dopo una prospera vecchiazza. E alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli amoreino è giunta finora a colmo. Or, come il sole si fu coricato e venne la notte oscura, ecco una fornace fumante ed una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece patto con Abramo dicendo, Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume e il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenisei, i Kadmonei, gli Ittei, i Feresei, i Gaffei, gli Amorei, i Cananei, i Chircasei e i Gebusei. Genesi Capitolo sedicesimo Or Sarai, moglie d'Abramo, non gli aveva dato figliuoli. Essa aveva una serva egiziana per nome Agar. E Sarai disse ad Abramo, Ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile, dè vada la mia serva, forse avrò progenie da lei. E Abramo dette ascolto alla voce di Sarai, e Sarai dunque moglie d'Abramo, dopo che Abramo ebbe dimorato dieci anni nel paese di Cana, prese la sua serva Agar, l'Egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Ed egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse che era incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. E Sarai, disse ad Abramo, l'ingiuria fatta a me ricade su te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da che ella si accorta che era incinta, mi guarda con disprezzo. L'Eterno sia giudice fra me e te. E Abramo rispose a Sarai, ecco, la tua serva è in tuo potere, fa con lei come ti piacerà. Sarai la trattò duramente, ed ella se ne fuggì da lei. E l'angelo dell'Eterno la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Shur, e le disse, Agar, serva di Sarai, donde vieni e donde vai? Ed ella rispose, me ne fuggo dal cospetto di Sarai, mia padrona. E l'angelo dell'Eterno le disse, torna alla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. E l'angelo dell'Eterno soggiunse, io moltiplicherò grandemente la tua progenie e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. E l'angelo dell'Eterno le disse ancora, ecco, tu sei incinta e partorirai un figliuolo al quale porrai nome Ismaele, perché l'Eterno ti ha ascoltata nella tua afflizione. Esso sarà tra gli uomini come un assino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti sarà contro di lui e abiterà in faccia a tutti i suoi fratelli. Allora Agar chiamò il nome dell'Eterno che le aveva parlato Ata e Roi perché disse ho io proprio qui veduto andarsene colui che m'ha vista. Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di La Cairoi. Ecco, esso è fra Cades e Bere. E Agar partorì un figliuolo ad Abramo e Abramo al figliuolo di Agar gli pose nome Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Genesi capitolo diciassettesimo Quando Abramo fu d'età di novantanove anni l'Eterno gli apparve e gli disse io sono l'Idio onipotente cammina la mia presenza e si integro ed io fermerò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia in terra e Dio gli parlò dicendo quanto a me ecco il patto che io fa con te tu diverrai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo ma il tuo nome sarà Abrahamo poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni e ti farò moltiplicare grandissimamente e ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re e fermerò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te di generazione in generazione e sarà un patto perpetuo per il quale io sarò l'idio tuo e della tua progenie dopo di te e a te e alla tua progenie dopo di te darò il paese dove abiti come uno straniero tutto il paese di Cana in possesso perpetuo e sarà loro Dio poi Dio disse ad Abramo quanto a te tu osserverai il mio patto tu e la tua progenie dopo di te di generazione in generazione questo è il mio patto che voi osserverete patto fra me e voi e la tua progenie dopo di te ogni maschio fra voi sia circonciso e sarete circoncisi e questo sarà un segno del patto fra me e voi all'età d'otto giorni ogni maschio sarà circonciso fra voi di generazione in generazione tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro da qualsivoglia straniero che non sia della tua progenie quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso e il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo e il maschio incirconciso che non sarà stato circonciso nella sua carne sarà reciso di fra il suo popolo egli avrà violato il mio patto e Dio disse ad Abrahamo quanto a Sarai tua moglie non la chiamar più Sarai il suo nome sarà invece Sara ed io la benedirò ed anche ti darò da lei un figliuolo io la benedirò ed essa diverrà nazioni re di popoli usciranno da lei allora Abramo si prostò con le faccia a terra e risse e disse in cuor suo nascerà egli un figliuolo a un uomo di cent'anni e Sara che ha novant'anni partirà ella e Abramo disse a Dio di grazia viva Ismael nel tuo cospetto e Dio rispose no ma sarà Sara tua moglie che ti partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Isacco e io fermerò il mio patto con lui un patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui quanto a Ismaele io t'ho esaudito ecco io l'ho benedetto e farò che molte prechiesa cresca grandissimamente egli genererà dodici principi ed io farò di lui una grande nazione ma fermerò il mio patto con Isacco che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno venturo e quando ebbe finito di parlare con lui e Dio lasciò Abramo levandosi in alto e Abramo prese Ismaele il suo figliuolo e tutti quelli che erano nati in casa e tutti quelli che aveva comprato col suo denaro tutti i maschi fra la gente della casa d'Abramo e li circoncise in quello stesso giorno come Dio gli aveva detto di fare or Abramo aveva novantanove anni quando fu circonciso e Ismaele suo figliuolo aveva tredici anni quando fu circonciso in quel medesimo giorno fu circonciso Abramo e Ismaele suo figliuolo e tutti gli uomini della sua casa tanto quelli nati in casa quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri furono circoncisi con lui Genesi Capitolo Diciottesimo L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno Abramo alzò gli occhi ed ecco che corse tre uomini i quali stavano dinanzi a lui e come li ebbe veduti corse loro incontro all'ingresso della tenda si prostrò fino a terra e disse te signor mio se ho trovato grazia davanti a te non passare senza fermarti dal tuo servo te lasciate che si porti un po' d'acqua lavatevi i piedi riposatevi sotto quest'albero io andrò a prendere un pezzo di pane e vi fortificherete il cuore poi continuerete il vostro cammino perché per questo siete passati presso al vostro servo e quelli dissero fa come hai detto allora Abramo andò in fretta nella tenda di Sara e le disse prendi subito tre misure di fior di farina impastala e fa delle schiacciate poi Abramo corse all'armento ne tolse un vitello tenero e buono e lo diede a un servo il quale si affrettò a prepararlo e prese del burro e del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro ed egli se ne stette in pie presso a loro sotto l'albero e quelli mangiarono poi essi gli dissero dov'è Sara tua moglie ed egli rispose è là nella tenda e l'altro tornerò certamente da te fra un anno ed ecco Sara tua moglie avrà un figliuolo e Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro a lui or Abramo e Sara erano vecchi bene avanti negli anni e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne e Sara rise dentro di sé dicendo vecchia come sono avrei io tali piaceri e anche il mio signore è vecchio e l'Eterno disse ad Abramo perché mai Sara ha riso dicendo parturirei io per davvero vecchia come sono va egli cosa che sia troppo difficile per l'Eterno al tempo fissato fra un anno tornerò e Sara avrà un figliuolo allora Sara negò dicendo non ho riso perché ebbe paura ma egli disse invece hai riso poi quegli uomini s'alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andava con loro per accomiatarli e l'Eterno disse celererò io ad Abramo quello che sto per fare già che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra poiché io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figliuoli e dopo di sé alla sua casa che s'attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità onde l'Eterno ponga ad effetto a pro da Abramo quello che gli ha promesso e l'Eterno disse siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave io scenderò e vedrò se hanno interamente agito secondo il grido che mi è pervenuto a me e se così non è lo saprò e quegli uomini partitisi di là s'avviarono verso Sodoma ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno e Abramo si accostò e disse farai tu perire il giusto insieme con l'Empio forse ci sono cinquanta giusti nella città farai tu perire anche quelli o non perdonerai tu a quel luogo per l'amore dei cinquanta giusti che vi sono lungi da te il fare tal cosa il far morire il giusto con l'Empio in guisa che il giusto sia trattato come l'Empio lungi da te il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia e l'Eterno disse se trovo nella città di Sodoma cinquanta giusti perdonerò a tutto il luogo per amore d'essi e Abramo prese e disse ecco prendo l'ardire di parlare al Signore benché io non sia che polvere e cenere forse a quei cinquanta giusti ne mancheranno cinque distruggerai tu tutta la città per cinque di meno e l'Eterno se ne trovo quarantacinque non la distruggerò e Abramo continuò a parlargli e disse forse vi se ne trovano quaranta e l'Eterno non lo farò per amore dei quaranta e Abramo disse non sia dire il Signore ed io parlerò forse vi se ne troveranno trenta e l'Eterno non lo farò se ne trovo trenta e Abramo disse ecco prendo l'ardire di parlare al Signore forse vi se ne troveranno venti e l'Eterno non la distruggerò per amore dei venti e Abramo disse ed è non sia dire il Signore io parlerò ancora questa volta soltanto forse vi se ne troveranno dieci e l'Eterno non la distruggerò per l'amore dei dieci e come l'Eterno ebbe finito di parlare ad Abramo se ne andò e Abramo tornò alla sua timora Genesi capitolo diciannovesimo or i due angeli giunsero a Sodoma verso sera e Lot stava sedendo alla porta di Sodoma e come li vide si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse signori miei vi prego venite in casa del vostro servo albergatevi questa notte e lavatevi i piedi poi domattina vi leverete per tempo e continuerete il vostro cammino ed essi risposero no passeremo la notte sulla piazza ma egli fe loro tanta premura che vennero da lui ed entrarono in casa sua ed egli fece loro un convito cosse dei pani senza lievito ed essi mangiarono ma prima che si fossero corricati gli uomini della città i sodomiti circondarono la casa giovani e vecchi la popolazione intera venuta da ogni lato e chiamarono Lot e gli dissero dove sono quegli uomini che sono venuti da te stanotte menaceli fuori finché li conosciamo Lot usci verso di loro sull'ingresso di casa si chiuse dietro la porta e disse Dei fratelli miei non fate questo male ecco ho due figliuole che non hanno conosciuto uomo Dei lasciate che io ve le meni fuori e voi fate di loro quel che vi piacerà soltanto non fate nulla a questi uomini perché sono venuti all'ombra del mio tetto ma essi gli dissero fatti in là e ancora quest'individuo è venuto qua come straniero e la vuol far da giudice ora faremo a te peggio che a quelli e premendo Lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta ma quegli uomini stessero la mano trassero Lot in casa con loro e chiusero la porta e coprirono di cecità la gente che era la porta della casa dal più piccolo al più grande talché si stancarono a cercare la porta e quegli uomini dissero a Lot chi hai tu ancora qui fa uscire da questo luogo generi figliuoli e figliuole e chiunque dei tuoi è in questa città poiché noi distruggeremo questo luogo perché il grido contro i suoi abitanti è grande nel cospetto dell'Eterno e l'Eterno ci ha mandati a distruggerlo allora Lot uscì parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliuole e disse levatevi uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città ma ai generi parve che volesse scherzare e come l'alba cominciò ad apparire gli angeli sollecitarono Lot dicendo levati prendi tua moglie e le tue figliuole che si trovano qui affinché tu non periscano il castigo di questa città ma egli si indugiava e quegli uomini presero per la mano lui sua moglie e le sue due figliuole perché l'Eterno lo voleva risparmiare e lo menarono via e lo misero fuori della città e avvenne che quando li ebbero fatti uscire uno di quegli uomini disse salvati la vita non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura salvati al monte che tu non abbia a perire e Lot rispose loro no mio signore ecco il tuo servo ha trovato grazie agli occhi tuoi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me conservandomi in vita ma io non posso salvarmi al monte prima che il disastro mi sopraggiunga ed io perisca ecco questa città è vicina da potermici rifugiare ed è piccola dè lascia che io scampi quivi non è essa piccola e vivrà l'anima mia e quegli a lui ecco anche questa grazia io ti concedo di non distruggere la città affrettati scampaco là poiché io non posso far nulla finché tu vi sia giunto perciò quella città fu chiamata Zoar il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gamorra solfo e fuoco da parte dell'Eterno ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale e Abramo si levò la mattina a buon'ora e andò al luogo dove s'era prima fermato davanti all'Eterno e guardò verso Sodoma e Gamorra e verso tutta la regione della pianura ed ecco vide un fumo che si levava dalla terra come il fumo di una fornace così avvenne che quando il Dio distrusse le città della pianura egli si ricordò da Abramo e fece partire Lot di mezzo al disastro allorché sovvertì le città dove Lot aveva dimorato Lot salì da Zoar e dimorò sul monte insieme con le sue due figliuole perché temeva di stare in Zoar e dimorò in una spelonca egli con le sue due figliuole e la maggiore disse alla minore nostro padre è vecchio e non c'è più nessuno sulla terra per venire da noi come si costuma in tutta la terra vieni diamo a bere del vino a nostro padre e giasciamoci con lui affinché possiamo conservare la razza di nostro padre e quella stessa notte dettero a bere del vino a loro padre e la maggiore entrò e si giacque con suo padre ed egli non si accorse né quando essa si coricò né quando si levò e avvenne che il di seguente la maggiore disse alla minore ecco la notte passata io mi giacqui con mio padre diamogli a bere del vino anche questa notte e tu entra e giaciti con lui affinché possiamo conservare la razza del nostro padre e quella notte dettero a bere del vino al padre loro e la minore andò a giacersi con lui ed egli non si accorse né quando essa si coricò né quando si levò e così le due figliuole di Lot rimasero incinte del loro padre e la maggiore partorì un figliuolo al quale posse nome Moab questi è il padre dei Moabiti che sussistono fino al di d'oggi e la minore partorì anch'essa un figliuolo al quale posse nome Ben Ammi questi è il padre degli Ammoniti che sussistono fino al di d'oggi Genesi capitolo ventesimo Abraham si partì di là andando verso il paese del mezzodì dimorò fra Cades e Shur e abitò come forestiero in Gerar e Abraham diceva di Sara sua moglie e lei mia sorella e Abimelec re di Gerar mandò appigliare Sara ma Dio venne di notte in sogno ad Abimelec e gli disse ecco tu sei morto a motivo della donna che ti sei presa perché che ella ha marito or Abimelec non si è raccostato a lei e rispose signore faresti tu perire una nazione anche se giusta non ma egli detto è mia sorella e anche lei stessa ha detto è mio fratello io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con mano innocenti e Dio gli disse nel sogno anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore e t'ho quindi preservato dal peccare contro di me perciò non ti ho permesso di toccarla or dunque restituisci la moglie a quest'uomo perché è profeta ed egli pregherà per te e tu vivrai ma se non la restituisci sappi che per certo morrai tu e tutti i tuoi e Abimelec si levò la mattina per tempo chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose e quegli uomini furi un presi da gran paura poi Abimelec chiamò Abraamo e gli disse che ci hai fatto tu e in che tu ho offeso che tu abbia fatto venire su me e sul mio regno un sì gran peccato tu mi hai fatto cose che non si debbono fare e di nuovo Abimelec disse ad Abraamo a che mi miravi facendo questo ed Abraamo rispose l'ho fatto perché dicevo fra me certo in questo luogo non c'è timore di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie inoltre ella è proprio mia sorella figliola di mio padre ma non figliola di mia madre ed è divenuta mia moglie or quando il Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre io le dissi questo è il favore che tu mi farai dovunque giungeremo dirai di me è mio fratello e Abimelec prese delle pecore dei buoi dei servi e delle serve e li diede ad Abraamo e gli restitui Sara sua moglie ed Abimelec disse ecco il mio paese ti sta dinanzi dimora dovunque ti piacerà e a Sara disse ecco io ho dato al tuo fratello mille pezzi d'argento questo ti sarà un velo sugli occhi di fronte a tutti quelli che son teco e sarai giustificata dinanzi a tutti e Abraamo pregò e Dio e Dio guarì Abimelec la moglie e le serve di lui ed esse poteron partorire poiché l'Eterno aveva del tutto resa sterile l'intera casa di Abimelec a motivo di Sara moglie di Abramo Genesi capitolo ventunesimo l'Eterno visitò Sara come aveva detto e l'Eterno fece a Sara come aveva annunziato e Sara concepì e partorì un figliuolo ad Abraamo quando egli era vecchio al tempo che Dio gli aveva fissato e Abraamo pose nome Isacco al figliuolo che gli era nato che Sara gli aveva partorito e Abraamo circoncise il suo figliuolo Isacco all'età di otto giorni come Dio gli aveva comandato or Abramo aveva cent'anni quando gli nacque il suo figliuolo Isacco e Sara disse il Dio ma dato di che ridere chiunque ludrà riderà con me e aggiunse chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara allatterebbe figliuoli poiché io gli ho partorito un figliuolo nella sua vecchiaia il bambino dunque crebbe e fu divezzato e nel giorno che Isacco fu divezzato Abramo fece un gran convito e Sara vide che il figliuolo partorito ad Abramo da Agar l'egiziana rideva allora ella disse ad Abramo caccia via questa serva il suo figliuolo perché il figliuolo di questa serva non ha da essere erede col mio figliuolo con Isacco e la cosa dispiacque fortemente ad Abramo a motivo del suo figliuolo ma Dio disse ad Abramo questo non ti dispiaccia a motivo del fanciullo e della tua serva acconsentì a tutto quello che Sara ti dirà poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome ma anche dal figliuolo di questa serva io farò una nazione perché è tua progenie Abramo dunque si levò la mattina di buon'ora prese del pane un otre d'acqua e lo diede ad Agar mettendoglielo sulle spalle e le diede anche il fanciullo e la mandò via essa partì e andò errando per il deserto di Beersheba e quando l'acqua dell'otre venne meno essa lasciò cadere il fanciullo sotto un arbocello e se ne andò e si pose a sedere di rimpetto a distanza ad un tiro d'arco perché diceva che io non venga morire il fanciullo e sedendo così di rimpetto alzò la voce e pianse e Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse che hai Agar non temere poiché il Dio ha udito la voce del fanciullo laddove levati prendi il ragazzo e tienlo per la mano perché io farò di lui una grande nazione e Dio le ha perse gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò ed empì l'acqua d'otre e die da bere al ragazzo e Dio fu con lui ed egli crebbe abitò nel deserto e fu tiratore d'arco dimorò nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto ora venne in quel tempo che Abimelech accompagnato da Piccol capo del suo esercito parlò ad Abrahamo dicendo il Dio è teco in tutto quello che fai or dunque giurami qui nel nome di Dio che tu non ingannerai né me né i miei figlioli né i miei nipoti ma che userai verso di me e verso il paese dove hai dimorato come forestiero la stessa benevolenza che io ho usata verso di te e Abrahamo rispose lo giuro e Abrahamo fece delle rimostranze ad Abimelech per cagione di un pozzo di acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti per forza e Abimelech disse io non so chi abbia fatto questo tu stesso non me l'hai fatto sapere e io non ne ho sentito parlare che oggi e Abrahamo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech e i due fecero alleanza poi Abrahamo mise da parte sette agnelle del gregge e Abimelech disse ad Abramo che vogliono dire queste sette agnelle che tu hai messe da parte Abrahamo rispose tu accetterai dalla mia mano queste sette agnelle affinché questo mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo perciò egli chiamò quel pozzo Beersheba perché ambe due vi avevano fatto giuramento così fecero alleanza a Beersheba poi Abimelech con Piccol capo del suo esercito si levò e se ne tornarono nel paese dei Filistei e Abrahamo piantò un tamarindo a Beersheba e invocò qui vi il nome dell'Eterno l'iddio dell'eternità e Abrahamo dimorò come forestiero molto tempo nel paese dei Filistei Genesi capitolo ventiduesimo dopo queste cose avvenne che Dio provò Abrahamo e gli disse Abrahamo ed egli rispose eccomi e Dio disse prendi ora il tuo figliuolo il tuo unico colui che ami Isacco e vattene nel paese di Morria e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò ed Abrahamo levatosi la mattina di buon'ora mise il basto al suo asino presse con sé due suoi servitori e Isacco suo figliuolo spaccò della legna per l'olocausto poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto il terzo giorno Abrahamo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo e Abrahamo disse ai suoi servitori rimanete qui con l'asino ed io ed il ragazzo andremo fin colà e adoreremo poi torneremo a voi e Abrahamo prese la legna per l'olocausto e la pose addosso a Isacco suo figliuolo poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e tutti e due si incamminarono assieme e Isacco parlò ad Abrahamo suo padre e disse padre mio Abrahamo rispose eccomi qui figlio mio e Isacco ecco il fuoco e le legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto e Abrahamo rispose figlio mio e Dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto e camminarono ambe due assieme e giunsero al luogo che Dio gli aveva detto e ad Abrahamo edificò quivi l'altare e vi accomodò le legna legò Isacco suo figliuolo e lo mise sull'altare sopra le legna e Abrahamo stesse la mano e prese il coltello per scannare il suo figliuolo ma l'angelo dell'eterno gli gridò dal cielo e disse Abramo Abramo e quelli rispose eccomi e l'angelo non metter la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male poiché ora so che tu temi Dio giacché non mai rifiutato il tuo figliuolo l'unico tuo e Abrahamo alzò gli occhi guardò ed ecco dietro a sé un montone preso per le corne non c'è spuglio ed Abrahamo andò prese il montone e l'offersi in olocausto invece del suo figliuolo e Abrahamo pose il nome a quel luogo Jehovah Gireh per questo si dice oggi al monte dell'eterno sarà provveduto l'angelo dell'eterno chiamò dal cielo Abrahamo una seconda volta e disse io giuro per me stesso dice l'eterno che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliuolo l'unico tuo io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie perché tu hai ubbidito alla mia voce poi Abramo se ne tornò ai suoi servitori e si levarono e se ne andarono assieme a Beersheba e Abramo dimorò a Beersheba dopo queste cose avvenne che fu riferito ad Abramo questo ecco Milca ha partorito anche la dei figliuoli a Nahorto fratello Uz suo primogenito Buz suo fratello Chemuel padre d'Aram Gesed Hasel Pildash Jidaf e Bethul e Bethul generò Rebecca questi otto Milca partorì a Nahort fratello d'Abrahamo e la concubina di lui che si chiamava Reumat partorì anche essa Teba Gam Tahash e Mahaka Genesi capitolo ventitreesimo Or la vita di Sara fu di cento ventisette anni tanti furono gli anni della vita di Sara e Sara morì a Kirat Arba che è in Ebro nel paese di Canam e Abramo venne a far duolo di Sara e a piangerla poi Abramo si levò di presso al suo morto e parlò ai figliuoli di Het dicendo io sono straniero e avventizio fra voi datemi la proprietà di un sepolcro fra voi affinché io seppellisca il mio morto e me lo tolga dinanzi e i figlioli di Het risposero ad Abramo dicendo ascoltaci Signore tu sei fra noi un principe di Dio seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri nessuno di noi ti rifiuterà il suo sepolcro perché tu vi seppellisca il tuo morto ed Abramo si levò si inchinò dinanzi al popolo del paese e dinanzi ai figlioli di Het e parlò loro dicendo se piace a voi che io tolga il mio morto dinanzi a me lo seppellisca ascoltatemi e intercedete per me presso Efron figliolo di Zoar perché mi ceda la sua spelonca di Machpelah che è all'estremità del suo campo e me la dia per l'intero suo prezzo come sepolcro che mi appartenga fra voi ora Efron sedeva in mezzo ai figlioli di Het ed Efron lo hitteo rispose ad Abramo in presenza dei figlioli di Het e di tutti quelli che entravano per la porta della sua città dicendo no mio signore ascoltami io io ti dono il campo e ti dono la spelonca che vè te ne fò dono in presenza dei figlioli del mio popolo seppellisci il tuo morto Abramo si inchinò dinanzi al popolo del paese e parlò ad Efron in presenza del popolo del paese dicendo De ascoltami io ti darò il prezzo del campo accettalo da me e io seppillerò qui il mio morto ed Efron rispose ad Abramo dicendo signor mio ascoltami un pezzo di terreno di quattrocento cicli d'argento che cos'è fra me e te seppellisci dunque il tuo morto e Abramo fece a modo di Efron ed Abramo pesò a Efron il prezzo che gli aveva detto in presenza dei figlioli di Het quattrocento cicli d'argento di buona moneta mercantile così il campo di Efron che era a Macbela di rimpetto a Manre il campo con la caverna che vera e tutti gli arberi che erano nel campo e in tutti i confini dell'intorno furono assicurati come proprietà ad Abramo in presenza dei figlioli di Het e di tutti quelli che entravano per la porta della città di Efron dopo questo Abramo seppellisara sua moglie nella spelonca nel campo di Macbela di rimpetto a Manre che è Ebrom nel paese di Canaan e il campo e la spelonca che vè furono assicurati ad Abramo dai figlioli di Het come sepolcro di sua proprietà Genesi capitolo ventiquattresimo Ora Abramo era vecchio ed età avanzata e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa e Abramo disse al più antico servo di cassa sua che aveva il governo di tutti i suoi beni dè metti la tua mano sotto la mia coscia e io ti farò giurare per l'Eterno lì Dio dei Cieli e lì Dio della Terra che tu non prenderai per moglie al mio figliuolo alcuna delle figliuole dei Cananei fra i quali di Moro ma andrai al mio paese e al mio parentado e vi prenderai una moglie per il mio figliuolo per Isacco e il servo gli rispose forse quella donna non vorrà seguirmi in questo paese dovrò io allora ricondurre il tuo figliuolo nel paese dove sei uscito e Abramo gli disse guardati dal ricondurre colà il mio figliuolo l'Eterno lì Dio dei Cieli che mi trasse dalla cassa di mio padre e dal mio paese natale e mi parlò e mi giurò dicendo io darò alla tua progenia questo paese egli stesso manderai il suo angelo davanti a te e tu prenderai di là una moglie per il mio figliuolo e se la donna non vorrà seguirti allora sarai sciolto da questo giuramento che ti faccio fare soltanto non ricondurre colà il mio figliuolo e il servo pose la mano sotto la coscia ad Abramo suo signore e gli giurò di fare come egli chiedeva poi il servo prese dieci cammini fra i cammini del suo signore e si partì avendo a sua disposizione tutti i beni del suo signore e messosi in viaggio andò in Mesopotamia alla città di Nahor e fatti riposare sulle ginocchia i cammini fuori della città preso a un pozzo d'acqua verso sera allora in cui le donne escono ad attinger acqua disse O eterno Dio del mio signore Abramo De fammi fare quest'oggi un felice incontro e usa benignità verso Abramo mio signore ecco io sto qui presso a questa sorgente e le figlie degli abitanti della città usciranno ad attinger acqua fa che la fanciulla alla quale dirò De abbassa la tua brocca perché io beva e che mi risponderà bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco e da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio signore non aveva ancora finito di parlare quando ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca figliuola di Betuel figlio di Milca moglie di Nahor fratello di Abramo la fanciulla era molto bella d'aspetto vergine e uomo alcuno non l'aveva conosciuta ella scese alla sorgente empì la brocca e risalì e il servo le corse incontro e le disse De dammi a bere un po' d'acqua dalla tua brocca ed ella rispose bevi signor mio e si affrettò a calarsi la brocca sulla mano e gli al diè da bere e quando ebbe finito di dargli da bere disse io ne attingerò anche per i tuoi cammelli finché abbiam bevuto a sufficienza e presto vuotò la sua brocca nell'abbeveratorio corse di nuovo al pozzo ad attingere acqua e ne atinse per tutti i cammelli di lui e quell'uomo la contemplava in silenzio per sapere se l'Eterno avesse o no fatto prosperare il suo viaggio e quando i cammelli ebbero finito di bere l'uomo prese un anello d'oro del peso di un ciclo e due braccialetti del peso di dieci cicli d'oro per i polsi di lei e disse di chi sei figliuola dè dimmelo ve posto in casa di tuo padre per albergarci ed ella rispose sono figliuola di Betuel figliuolo di Milca che la partorì a Nahor e aggiunse c'è da noi strame foraggio assai e anche posto da albergare e l'uomo si inchinò adrò l'Eterno e disse benedetto l'Eterno l'Iddio di Abramo mio Signore che non ha cessato d'essere benigno e fedele verso il mio Signore quanto a me l'Eterno mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore e la fanciulla corse a raccontare queste cose a casa di sua madre or Rebecca aveva un fratello chiamato Lebano e Lebano corse fuori da quell'uomo alla sorgente come ebbe veduto l'anello e i braccialetti e i polsi di sua sorella ed ebbe udite le parole di Rebecca sua sorella che diceva quell'uomo mi ha parlato così venne a quell'uomo ed ecco che egli se ne stava presso ai cammelli vicino alla sorgente e disse entra benedetto dall'Eterno perché stai fuori io ho preparato la casa e un luogo per i cammelli l'uomo entrò in casa e Lebano scaricò i cammelli diede strame e foraggio ai cammelli portò acqua per lavare i piedi a lui e a quelli che erano con lui poi gli fu posto davanti da mangiare ma egli disse non mangerò finché non abbia fatto la mia ambasciata e l'altro disse parla e quelli io sono servo d'Abramo l'Eterno ha benedetto abbondantemente il mio Signore che è divenuto grande gli ha dato pecore e buoi argento e oro servi e serve cammelli ed asini or Sara moglie del mio Signore ha partorito nella sua vecchiaia un figliuolo al mio padrone che gli ha dato tutto quel che possiede e il mio Signore mi ha fatto giurare dicendo non prenderai come moglie per il mio figliuolo alcuna delle figlie dei cananei del paese dei quali dimoro ma andrai alla casa di mio padre e al mio parentado e vi prenderai una moglie per il mio figliuolo ed io dissi al mio padrone forse quella donna non mi vorrà seguire ed egli rispose l'Eterno nel cospetto del quale ho camminato manderai il suo angelo teco e farà prosperare il tuo viaggio e tu prenderai al mio figliuolo una moglie dal parentato e dalla casa di mio padre sarai sciolto dal giuramento che ti fo fare quando sarai andato dal mio parentato e se non vorranno dartela allora sarai sciolto dal giuramento che mi fai oggi oggi sono arrivato alla sorgente e ho detto o Eterno Dio del mio signore Abramo seppur ti piace far prosperare il viaggio che ho intrapreso ecco io mi fermo presso questa sorgente fa che la fanciulla che uscirà ad attingere acqua alla quale dirò te dammi da bere un po' d'acqua dalla tua brocca e che mi dirà bevi pure e ne attingerò anche per i tuoi cammelli sia la moglie che l'Eterno ha destinata al figliuolo del mio signore e avanti che avesse finito di parlare in cuor mio ecco uscir fuori Rebecca con la sua brocca sulla spalla scendere alla sorgente e attinger acqua allora io le ho detto te dammi da bere ed ella si è affrettata a calare la brocca della spalla e mi ha risposto bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli così ho bevuto io ed ella ha beverato anche i cammelli poi l'ho interrogata e le ho detto di chi sei figliuola ed ella mi ha risposto sono figliuola di Betuel figlio di Nahor che Milca di Partori allora io le ho messo l'anello al naso e i braccialetti ai polsi e mi sono inchinato e ho adorato l'Eterno e ho benedetto l'Eterno lì Dio di Abramo mio Signore che mi ha condotto per la retta via a prendere per il figliuolo di lui la figliuola del fratello del mio Signore ed ora se volete usare benignità e fedeltà verso il mio Signore ditemelo ditemelo se no ditemelo lo stesso e mi volgerò a destra o a sinistra allora l'Ebano e Betuel risposero e dissero la cosa procede dall'Eterno noi non possiamo dirti né male né bene ecco Rebecca ti sta dinanzi prendila va e sia ella moglie del figliuolo del tuo Signore come l'Eterno ha detto e quando il servo d'Abramo ebbe udito le loro parole si prostrò a terra dinanzi all'Eterno il servo trasse poi fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti e li dette a Rebecca e donò anche delle cose preziosi al fratello e alla madre di lei poi mangiarono e bevero egli e gli uomini che erano con lui e passaron qui vi la notte la mattina quando si furono levati il servo disse lasciatemi tornare al mio Signore e il fratello e la madre di Rebecca dissero rimanga la fanciulla ancora alcuni giorni con noi almeno una decina poi se ne andrà ma egli rispose loro non mi trattenete già che l'Eterno mi ha fatto prosperare il mio viaggio lasciatemi partire affinché io me ne torni al mio Signore allora dissero chiamiamo la fanciulla e sentiamo lei stessa chiamarono Rebecca e le dissero vuoi tu andare con quest'uomo ed ella rispose sì andrò così lasciarono andare Rebecca loro sorella e la sua balia col servo d'Abramo e la sua gente e benedissero Rebecca e le dissero sorella nostra possa tu essere madre di migliaia di miriadi e possa la tua progenie possedere la porta dei suoi nemici e Rebecca si levò con le sue serve e montarono i suoi cammelli e seguirono quell'uomo e il servo prese Rebecca e se ne andò ora Isacco era tornato dal pozzo di Lacai Roi e abitava nel paese del Mezzodì Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna e alzati gli occhi guardò ed ecco venire dei cammelli e Rebecca alzati anche gli occhi vide Isacco salto giù dal cammello e disse al servo chi è quel uomo che viene per il campo incontro a noi e il servo rispose è il mio signore ed ella presso il suo velo se ne coprì e il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto e Isacco menò Rebecca nella tenda di Sara sua madre e se la prese ed ella divenne sua moglie ed egli l'amò così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre Genesi capitolo venticinquesimo poi Abrahamo prese un'altra moglie per nome Chetura e questa gli partorì Zimran Jogshan Jogshan Medan Madian Jishbak e Shuhak Jogshan generò Sheba e Dedan i figlioli di Dedan furono gli Ashurim i Letushin e i Leumim e i figlioli di Madian furono Efha Efer Hanok Abida e Eldah tutti questi furono i figlioli di Chetura e Abrahamo dette tutto quello che possedeva a Isacco ma i figlioli delle sue concubine fece dei doni e mentre era ancora in vita li mandò lungi dal suo figliolo Isacco verso Levante nel paese d'Oriente or tutto il tempo della vita d'Abramo fu centosettantacinque anni poi Abramo ispirò in prospera vecchiezza attempato e sazio di giorni e fu riunito al suo popolo e Isacco ed Ismaele i suoi figlioli lo seppellirono nella spelonca di Macpela nel campo di Efron figlio di Zoar Loiteo che è di rimpetto a Mamre campo che Abramo aveva comprato dai figlioli di Het qui vi furono sepolti Abramo e Sara sua moglie e dopo la morte di Abramo il Dio benedisse Isacco figliolo di lui e Isacco dimorò presso al pozzo di Lakai Roi or questi sono i discendenti di Ismaele figliolo di Abramo che Agar l'egiziana serva di Sara aveva partorito ad Abramo questi sono i nomi dei figlioli di Ismaele secondo le loro generazioni Nebaiot il primo genito di Israele poi Kedar Adbeel Mipsam Nishma Duma Massa Adar Tema Cethur Nafish e Kenma questi sono i figlioli di Ismaele e questi i loro nomi secondo i loro villaggi e i loro accampamenti furono i dodici capi dei loro popoli e gli anni della vita di Ismaele furono centotrentasette poi spirò morì e fu riunito al suo popolo e i suoi figlioli abitarono da Avila fino a Ashur che è di rimpetto all'Egitto andando verso la Siria egli si stabilì di faccia a tutti i suoi fratelli e questi sono i discendenti di Isacco figliolo di Abramo Abramo generò Isacco e Isacco era in età di quarant'anni quando prese per moglie Rebecca figliolo di Betuel l'Armeo di Padangaram e sorella di Lebano l'Arameo e Isacco pregò istantemente l'Eterno per sua moglie perché ella era sterile e l'Eterno l'esaudì e Rebecca sua moglie concepì e i bambini si urtavano nel suo seno ed ella disse se così è perché vivo e andò a consultare l'Eterno e l'Eterno le disse due nazioni sono nel tuo seno e due popoli separati usciranno dalle tue viscere uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore e quando venne per lei il tempo di partorire ecco che l'aveva due gemelli nel seno e il primo che uscì fuori era rosso e tutto quanto come un mantello di pelo e gli fu posto nome Esau dopo uscì il suo fratello che con la mano teneva il calcagno di Esau e gli fu posto nome Giacobbe or Isacco era in età di 60 anni quando Rebecca li partorì i due fanciulli crebbero ed Esau divenne un esperto cacciatore un uomo di campagna e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende or Isacco amava Esau perché la cacciagione era di suo gusto e Rebecca amava Giacobbe or come Giacobbe si era fatto cuocere una minestra Esau giunse dai campi tutto stanco ed Esau disse a Giacobbe te dammi da mangiare un po' di cotesta minestra rossa perché sono stanco per questo fu chiamato Edom e Giacobbe gli rispose vendimi prima di tutto la tua promogenitura ed Esau disse ecco io sto per morire che mi giova la primogenitura e Giacobbe disse prima giuramelo ed Esau glielo giurò e vendè la sua primogenitura a Giacobbe e Giacobbe diede a Esau del pane e della minestra di lenticchie ed egli mangiò e beve poi si levò e se ne andò così Esau sprezzò la primogenitura Genesi capitolo ventiseesimo ora ora ci fu la carestia nel paese oltre la prima carestia che c'era stata al tempo di Abramo e Isacco andò da Abimelec re dei filistei a Gerar e l'Eterno gli apparve e gli disse non scendere in Egitto timora nel paese che io ti dirò soggiorna in questo paese e io ti sarò teco e ti benedirò poiché io darò a te e alla tua progenie tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo darò alla tua progenie tutti questi paesi e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato i miei comandamenti i miei statuti e le mie leggi e Isacco dimorò a Gerar e quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno alla sua moglie egli rispondeva è mia sorella perché aveva paura di dire è mia moglie non vorrei egli pensava che la gente del luogo avesse ad uccidermi a motivo di Rebecca poiché ella era di bell'aspetto ora prolungandosi quivi il suo soggiorno avvenne che Abimelec re dei filistei mentre guardava dalla finestra vide Isacco che scherzava con Rebecca sua moglie e Abimelec chiamò Isacco e gli disse certo Costei e tua moglie come mai dunque hai detto è mia sorella ed Isacco rispose perché dicevo non vorrei essermesso a morte a motivo di lei e Abimelec che cos'è questo che ci hai fatto poco è mancato che qualcuno del popolo si giacesse con tua moglie e tu ci avresti tirato addosso una grande colpa e Abimelec chiede quest'ordine a tutto il popolo chiunque toccherà quest'uomo o sua moglie sia messo a morte Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse quest'uomo divenne grande andò crescendo sempre più finché diventò grande oltre misura fu padrone di gregi di pecore di mandri di buoi e di numerosa servitù i filistei lo invidiavano e perciò durarono ed empirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre e Abimelec disse ad Isacco vattene da noi poiché tu sei molto più potente di noi Isacco allora si partì di là si accampò nella valle di Gerar e qui vi dimorò e Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre che i filistei avevano turati dopo la morte di Abramo e pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto suo padre e i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva ma i pastori di Gerar l'altercarrono coi pastori di Isacco dicendo l'acqua è nostra ed egli chiamò il pozzo Ezek poiché quelli avevano conteso con lui poi i servi scavarono un altro pozzo e per questo ancora quelli si altercarrono e Isacco lo chiamò Sitina allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non altercarrono ed egli lo chiamò Rehoboth perché disse ora l'Eterno ci ha messo a largo noi prospereremo nel paese poi di là Isacco salì a Beershiba e l'Eterno gli apparve in quella stessa notte e gli disse io sono l'iddio di Abramo tuo padre non temere poiché io sono teco e ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie per amore di Abramo mio servo ed egli edificò quivi un altare e invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda e i servi di Isacco scavaron quivi un pozzo e Abimelech andò da lui a Gerar con Ausad suo amico e compicò il capo del suo esercito e Isacco disse loro perché venite da me giacché mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese e quelli risposero noi abbiamo chiaramente veduto che l'Eterno è teco e abbiamo detto si faccia ora un giuramento fra noi e te e facciamo legateco giura che non ci farai alcun male così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace tu sei ora benedetto dall'Eterno e Isacco fece loro un convito ed essi mangiarono e bevero la mattina di poi si levarono di buon'ora e si fecero un scambievole giuramento poi Isacco li accomietò e quelli li partirono da lui in pace ora venne che in quello stesso giorno i servi di Isacco li vennero a dar notizia del pozzo che avevano scavato dicendoli abbiamo trovato dell'acqua ed egli lo chiamò Shiba per questo la città porta il nome di Bershiba fino al giorno otto oggi or Esau era di quarant'anni prese per moglie Giudit figliuola di Beri Loiteo e Bashmat figliuola di Elod Loiteo esse furono occasione d'amarezza d'animo a Isacco e a Nebeca Genesi capitolo ventisettesimo ora venne quando Isacco era divenuto vecchio e i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più che gli chiamò Esau suo figliuolo maggiore e gli disse figliuolo mio e quello rispose eccomi ed Isacco ecco io sono vecchio e non so il giorno della mia morte e prendi ora le tue armi e il tuo turcasso e il tuo arco vattene fuori ai campi prendimi un po' di caccia e preparami una pietanza saporita di quelle che mi piacciono portemela perché io la mangi e l'anima mia ti benedica prima che io muoia or Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco parlava ad Esau suo figliuolo ed Esau se ne andò ai campi per fare qualche caccia e portarla a suo padre e Rebecca parlò a Giacobbe suo figliuolo e gli disse ecco io ho udito tuo padre che parlava ad Esau tuo fratello e gli diceva portami un po' di caccia e fammi una pietanza saporita perché io la mangi e ti benedica nel cospetto dell'eterno prima che io muoia or dunque figliuolo mio ubbidisce alla voce mia e fa quello che io ti comando va ora al grege e prendimi due buoni capretti e io ne farò una pietanza saporita per tuo padre di quelle che gli piacciono e tu la porterai a tuo padre perché la mangi e così ti benedica prima di morire e Giacobbe disse a Rebecca a sua madre ecco Esau mio fratello è peloso e io no può darsi che mio padre mi tasti sarò allora da lui il reputato un ingannatore e mi trarrò addosso una maledizione invece di una benedizione e sua madre gli rispose questa maledizione ricada su me figliuolo mio ubbidisci pure alla mia voce e va e prendemi i capretti ed egli dunque andò a prenderli e li menò a sua madre e sua madre ne preparò una pietanza saporita di quelle che piacevano al padre di lui poi Rebecca prese i più bei vestiti di Esau suo figliuolo maggiore i quali aveva in casa presso di sé e li fece indossare a Giacobbe suo figliuolo minore e con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo che erano senza peli poi mise in mano a Giacobbe suo figliuolo la pietanza saporita e il pane che aveva preparato ed egli venne a suo padre e gli disse padre mio e Esau rispose eccomi chi sei tu figliuolo mio e Giacobbe disse a suo padre sono Esau il tuo primogenito ho fatto come tu mi hai detto deve levati mettiti a sedere e mangia della mia caccia affinché l'anima tua mi benedica e Isacco disse al suo figliuolo come hai fatto a trovarne così presto figliuolo mio e quello rispose perché l'Eterno il tuo Dio l'ha fatta venire sulla mia via e Isacco disse a Giacobbe fatti vicino figliuolo mio che ti tasti per sapere se sei proprio il mio figliuolo Esau o no Giacobbe dunque si avvicinò a Isacco suo padre e come questi l'ebbe tastato disse la voce è la voce di Giacobbe ma le mani sono le mani di Esau e non lo riconobbe perché le mani di lui erano pelose come le mani di Esau suo fratello e lo benedisse e disse sei tu proprio il mio figliuolo Esau ed egli rispose sì ed Isacco gli disse servimi che io mangi te la caccia del mio figliuolo e l'anima mia ti benedica e Giacobbe lo servì e Isacco mangiò Giacobbe gli portò anche del vino e degli beve poi Isacco suo padre gli disse dè fatti vicino e baciami figliuolo mio ed egli si avvicinò e lo baciò e Isacco sentì l'odore di vesti di lui e lo benedisse dicendo ecco l'odore del mio figliuolo è come l'odore di un campo che l'eterno ha benedetto e Dio ti dia della rugiada dei cieli e della grassezza della terra in abbondanza di frumento e di vino ti servano i popoli e le nazioni si inchinino davanti a te sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinino davanti a te maledetto sia chiunque ti maledice benedetto sia chiunque ti benedice e avvenne che come Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe e Giacobbe se n'era appena andato dalla presenza di Isacco suo padre Esau suo fratello giunse dalla sua caccia anche 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 gli preparò una pietanza saporita la portò a suo padre e gli disse levisi mio padre e mangi della caccia del suo figliuolo affinché l'anima tua mi benedica e Isacco suo padre gli disse chi sei tu ed egli rispose sono Esau il tuo figliuolo primogenito ed Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse e allora chi è che ha preso della caccia e me l'ha portata io ho mangiato di tutto prima che tu venissi e l'ho benedetto e benedetto Isara e quando Esau ebbe udito le parole di suo padre dette in un grido forte ed amarissimo poi disse a suo padre benedici anche me padre mio e Isacco rispose il tuo fratello è venuto con inganno e ha preso la tua benedizione ed Esau non è forse ragione che gli è è stato chiamato Giacobbe ma già soppiantato due volte mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione poi aggiunse non hai tu riservato qualche benedizione per me ed Isacco rispose e disse a Esau ecco io l'ho costituito il tuo padrone e gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi e l'ho provvisto di frumento e di vino che potrei dunque fare per te figliuolo mio ed Esau disse a suo padre non hai tu che questa benedizione padre mio benedici anche me o padre mio ed Esau alzò la voce e pianse e Isacco suo padre rispose e gli disse ecco la tua dimora sarà priva della grassezza della terra e della rugiada che scende dai cieli tu vivrai tu vivrai e la tua spada e sarai servo di tuo fratello ma verrà che menando una vita errante tu spezzerai il suo gioco sul tuo collo ed Esau prese a odiare Giacobbe a motivo della benedizione datagli da suo padre e disse in cuor suo i giorni del lutto di mio padre si avvicinano allora ucciderò il mio fratello Giacobbe furono riferite a Rebecca le parole di Esau suo figliuolo maggiore ed ella mandò a chiamare Giacobbe suo figliuolo minore e gli disse ecco Esau tuo fratello si consola riguardo a te proponendosi di ucciderti ordunque figliuolo mio ubbidisce alla mia voce levati e fuggi a Karam dall'ebano mio fratello e trattienti quivi qualche tempo affinché il furore di tuo fratello sia passato finché l'ira del tuo fratello si sia stornata da te ed egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto allora io manderò a farti ricondurre di là perché sarei io priva di voi due in uno stesso giorno e Rebecca disse a Isacco io sono disgustata della vita a motivo di queste figliuole di Et se Giacobbe prende in moglie fra le figliuole di Et tra le figliuole del paese una donna come quelle che mi giova la vita Genesi capitolo ventottesimo allora Isacco chiamò Giacobbe e lo benedisse e gli diede quest'ordine non prender moglie fra le figliuole di Canaan levati vattene a Parangaram alla casa di Betuel padre di tua madre e prenditi moglie di là fra le figliuole di Lebano fratello di tua madre e lo Dio onipotente ti benedica ti renda fecondo e ti moltiplichi in guisa che tu divenga l'assemblea di popoli e ti dia la benedizione di Abramo a te e alla tua progenie con te affinché tu posseghi il paese dove sei andato peregrinando e che Dio donò ad Abramo e Isacco fece partire Giacobbe il quale se ne andò in Padamaram dall'ebano figliuolo di Betuel l'Aramneo fratello di Rebecca madre di Giacobbe e di Esau or Esau vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Padamaram perché vi prendesse moglie e che benedicendolo gli aveva dato quest'ordine non prender moglie fra le figliuole di Canaan e che Giacobbe aveva obbedito a suo padre e a sua madre e se ne era andato a Padamaram ed Esau si accorse che le figliuole di Canaan dispiacevano ad Isacco suo padre e andò da Ismaele e prese per moglie oltre quelle che aveva già Mahalat figliuola di Ismaele figliuolo di Abramo sorella di Nebaioth or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Karam e capitò in un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato prese una delle pietre del luogo la pose come suo capezzale e si coricò qui vi e sognò ed ecco una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala e l'Eterno stava di sopra ad essa e gli disse io sono l'Eterno l'Idio di Abramo tuo padre l'Idio di Isacco la terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te e alla tua progenie e la tua progenie sarà come la polvere della terra tu ti estenderai ad occidente e ad oriente a settentrione e a mezzodì e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie ed ecco io son teco e ti guarderò dovunque tu andrai tu condurrò in questo paese poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ho detto e come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno disse certo l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo ed ebbe paura e disse com'è tremendo questo luogo questa non è altro che la casa di Dio questa è la porta del cielo e Giacobbe si levò la mattina di buon'ora prese la pietra che aveva posta come suo capezzale la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sommità ad essa e posse nome a quel luogo Beto ma prima il nome della città era Luz e Giacobbe fece un voto dicendo se Dio è meco se mi guardo durante questo viaggio che fa se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi e se ritorno sano e salvo alla casa del padre mio l'Eterno sarà il mio Dio e questa pietra che ho eretta in monumento sarà la casa di Dio e di tutto quello che tu darai a me io certamente darò a te la decima Genesi capitolo ventinovesimo poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese delle orientali e guardò e vide un pozzo in un campo ed ecco tre greggi di pecore giacenti lì presso poiché a quel pozzo si abbeveravano i greggi e la pietra sulla bocca del pozzo era grande qui vi sadonavano tutti i greggi i pastori rotolavano la pietra sulla bocca del pozzo e abbeveravano le pecore poi rimettevano al posto la pietra sulla bocca del pozzo e Giacobbe disse ai pastori fratelli miei di dove siete? e quello rispose siamo di Karam ed egli disse loro conoscete voi l'ebano figliolo di Nahor ed essi lo conosciamo ed egli disse loro sta egli bene e quelli sta bene ed ecco Rachele e sua figliuola che viene con le pecore ed egli disse ecco è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame abbeverate le pecore e menatele al pascolo e quelle risposero non possiamo finché tutti i greggi siano radunati allora si rotola la pietra sulla bocca del pozzo e abbeveriamo le pecore mentre egli parlava ancora con loro giunse Rachele con le pecore di suo padre poiché ella era pastora e quando Giacobbe vide Rachele figliuola di Lebano fratello di sua madre e le pecore di Lebano fratello di sua madre s'avvicinò rotolò la pietra di sulla bocca del pozzo e abbeverò il greggio di Lebano fratello di sua madre e Giacobbe basciò Rachele alzò la voce e pianse e Giacobbe fe sapere a Rachele che gli era parente del padre di lei e che era figliuolo di Rebecca ed ella corse a dirlo a suo padre e appena Lebano ebbe udito le notizie di Giacobbe figliuolo della sua sorella gli corse incontro l'abbracciò lo baciò e lo menò a casa sua Giacobbe raccontò a Lebano tutte queste cose e Lebano gli disse tu sei proprio mie ossa e mia carne ed egli dimorò con lui durante un mese poi Lebano disse a Giacobbe perché sei mio parente dovrai tu servirmi per nulla dimmi quale deve essere il tuo salario or Lebano aveva due figliuole e la maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele Lea aveva gli occhi delicati ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto e Giacobbe amava Rachele e disse a Lebano io ti servirò sette anni per Rachele tua figliuola minore e Lebano rispose è meglio che la dia a te che è un altro uomo sta con me e Giacobbe servì sette anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava e Giacobbe disse a Lebano dammi la mia moglie poiché il mio tempo è compiuto e io andrò da lei allora Lebano radunò tutta la gente del luogo e fece un convito ma la sera prese Lea sua figliuola e l'amenò da Giacobbe il quale entrò da lei e Lebano dette la sua serva Zilpa per serva a Lea sua figliuola e l'indomani mattina ecco che era Lea e Giacobbe disse a Lebano che mai fatto non è egli per Rachele che io ti ho servito perché dunque mai ingannato e Lebano rispose non è usanza da noi di dare la minore prima della maggiore finisci la settimana di questa e ti daremo anche l'altra per il servizio che presterai da me altri sette anni Giacobbe fece così e finì la settimana di quello sposalizio poi Lebano gli dette la moglie in moglie Rachele sua figliuola e Lebano dette la sua serva Bila per serva a Rachele sua figliuola e Giacobbe entrò pure da Rachele ed anche amor Rachele più di Lea e servì talebano altri sette anni l'Eterno vedendo che Lea era odiata la rese feconda ma Rachele era sterile e Lea concepì e partorì un figliuolo al quale pose nome Ruben perché disse l'Eterno ha veduto la mia afflizione ed ora il mio marito mi amerà poi concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse l'Eterno ha udito che ero odiata e però mi ha dato anche questo figliuolo e lo chiamò Simeone e concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse questa volta il mio marito sarà ben unito a me perché gli ho partorito tre figliuoli per questo fu chiamato Levi e concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse questa volta celebrerò l'Eterno perciò gli pose nome Giuda e cessò da aver figliuoli Genesi capitolo trentesimo Rachele vedendo che non dava figliuoli a Giacobbe portò invidia alla sua sorella e disse a Giacobbe dammi dei figliuoli altrimenti muoio e Giacobbe s'accese dira contro Rachele e disse tengo io il luogo di Dio che t'ha negato d'essere feconda ed ella rispose ecco la mia serva Bila entra da lei essa partorirà sulle mie ginocchia e per mezzo di lei avrò anch'io dei figliuoli ed ella gli diede la sua serva Bila per moglie e Giacobbe entrò da lei e Bila concepì e partorì un figliuolo a Giacobbe e Rachele disse il Dio mi ha reso giustizia e ha anche ascoltato la mia voce e mi ha dato un figliuolo perciò gli pose nome Dan e Bila serva di Rachele concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figliuolo e Rachele disse io ho sostenuto con mia sorella lotte di Dio ed ho vinto perciò perciò gli pose nome Neftali Lea vedendo che aveva cessato da aver figliuoli prese la sua serva Zilpa e la diede a Giacobbe per moglie e Zilpa serva di Lea partorì un figliuolo a Giacobbe e Lea disse che fortuna e gli pose nome Gad poi Zilpa serva di Lea partorì a Giacobbe un secondo figliuolo e Lea disse me felice che le fanciulle mi chiameranno Beata perciò gli pose nome Asher or Ruben uscì al tempo della mietitura del grano e trovò delle mandragole per i campi e le portò a Lea sua madre allora Rachele disse a Lea te dammi delle mandragole del tuo figliuolo ed ella le rispose ti pare egli poco l'avermi tolto il marito che mi vuoi togliere anche le mandragole del mio figliuolo e Rachele disse ebbene si giaccia e gli teco questa notte in compenso delle mandragole del tuo figliuolo e come Giacobbe in sulla sera se ne tornava dai campi Lea uscì ad incontrarlo e gli disse devi entrare da me perché io ti ho accaparrato con le mie mandragole del mio figliuolo ed egli si giacque con lei quella notte e Dio esaudì Lea la quale concepì e partoria a Giacobbe un quinto figliuolo ed ella disse e Dio mi ha dato la mia mercede perché diedi la mia serva a mio marito e gli pose nome Issacar e Lea concepì ancora e partoria a Giacobbe un sesto figliuolo e Lea disse e Dio mi ha dotata di buona dote questa volta il mio marito abiterà con me poiché gli ho partorito sei figliuoli e gli pose nome Zabulom poi partorì una figliuola e gli pose nome Dina e Dio si ricordò anche di Rachele e Dio l'esaudì e la rese feconda ed ella concepì e partorì un figliuolo e disse e Dio ha tolto il mio proprio e gli pose nome Giuseppe dicendo l'Eterno aggiunga un altro figliuolo or dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe Giacobbe disse all'Ebano dammi licenza che io me ne vado a casa mia nel mio paese dammi le mie mogli per le quali ti ho servito e i miei figliuoli e lasciami andare poiché tu ben conosci il servizio che ti ho prestato e l'Ebano gli disse se ho trovato grazia dinanzi a te rimani giacché credo di indovinare che l'Eterno mi ha benedetto per amor tuo poi disse fissami il tuo salario e te lo darò Giacobbe gli rispose tu sai in qual modo io t'ho servito e quel che sia diventato il tuo bestiame nelle mie mani poiché quel che avevi prima che venissi era poco ma ora sei accresciuto oltremondo e l'Eterno ti ha benedetto dovunque io ho messo il piede ora quando lavorerò io anche per la casa mia e l'Ebano gli disse che ti darò io Giacobbe rispose non mi dar nulla se acconsenti a quel che sto per dirti io pascerò di nuovo i tuoi greggi e ne avrò cura passerò quest'oggi fra mezzo a tutti i tuoi greggi mettendo da parte di fra le pecore ogni agnello macchiato o violato e ogni agnello nero di fra le capre le violate o le macchiate e quello sarà il mio salario così da ora innanzi il mio diritto risponderà per me nel tuo cospetto quando vedrai ad accertare il mio salario tutto ciò che non sarà macchiato o vaiolato fra le capre o nero fra gli agnelli sarà rubato se si troverà presso di me e l'Ebano disse ebbene sia come tu dici e quello stesso giorno mise da parte i becchi striati e vaiolati e tutte le capre macchiate e vaiolate tutto quello che aveva del bianco e tutto quello che era nero fra gli agnelli e li affidò ai suoi figlioli e l'Ebano frappose la distanza di tre giornate di cammino fra sé e Giacobbe e Giacobbe pascolava il rimanente dei greggi di Lebano e Giacobbe prese delle verghe verdi di pioppo di mandorlo e di platano vi fece delle scortecciature bianche mettendo allo scoperto il bianco delle verghe poi collocò le verghe che aveva scortecciate in vista delle pecore nei rigagnoli negli abbeveratoi dove le pecore venivano a bere ed entravano in caldo quando venivano a bere le pecore dunque entravano in caldo avendo davanti quelle verghe e figliavano agnelli striati macchiati e vaiolati poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli e faceva avvolgere gli occhi delle pecore verso tutto quello che era istriato e tutto quello che era nero nel greggio di Lebano egli si formò così dei greggio a parte che non unì ai greggio di Lebano or avveniva che tutte le volte che le pecore vigorose del greggio entravano in caldo Giacobbe metteva le verghe nei rigagnoli in vista delle pecore perché le pecore entrassero in caldo vicino alle verghe ma quando le pecore erano deboli non ve le metteva così gli agnelli deboli erano di Lebano e vigorosi di Giacobbe e quest'uomo diventò ricco oltremodo ed ebbe greci numerosi serve servi cammelli ed asini Genesi capitolo trentunesimo or Giacobbe udì le parole dei figliuoli di Lebano che dicevano Giacobbe ha tolto tutto quello che era di nostro padre e con quello che era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza Giacobbe osservò pure il volto di Lebano ed ecco non era più verso di lui quello di prima e l'Eterno disse a Giacobbe torna al paese dei tuoi padri al tuo parentato e io sarò teco e Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea perché venissero ai campi presso al suo gregge e disse loro io vedo che il volto di vostro padre non è più verso di me quello di prima ma il Dio di mio padre è stato meco e voi sapete che io ho servito il padre vostro con tutto il mio potere mentre vostro padre mi ha ingannato e ha mutato il mio salario dieci volte ma Dio non gli ha permesso di farmi del male quando egli diceva i macchiati saranno il tuo salario tutto il gregge figliava agnelli macchiati e quando diceva gli striati saranno il tuo salario tutto il gregge figliava agnelli striati così il Dio ha tolto il bestiame a vostro padre e me l'ha dato e una volta avvenne al tempo che le pecore entravano in caldo che io alzai gli occhi e vidi in sogno che i maschi che montavano le femmine erano striati macchiati o chiaziati e l'agnello di Dio mi disse nel sogno Giacobbe e io risposi eccomi ed egli alza ora gli occhi e guarda tutti i maschi che montano le femmine sono striati macchiati o chiazzati perché ho veduto tutto quel che levano ti fa io sono l'iddio di Betel dove tu ungesti un monumento e mi facesti un voto ora levati partiti da questo paese e torna al tuo paese natio Rachele e Lea risposero e gli dissero abbiano e forse ancora qualche parte o eredità in casa di nostro padre non ci ha egli trattate da straniere quando ci ha vendute e ha per di più mangiato il nostro denaro tutte le ricchezze che Dio ha tolte a nostro padre sono nostre e dei nostri figlioli or dunque fa tutto quello che Dio ti ha detto allora Giacobbe si levò mise i suoi figlioli e le sue mogli sui cammelli e meno via tutto il suo bestiame tutte le sostanze che aveva acquistate il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Padangaram per andarsene da Isacco suo padre nel paese di Canam or mentre Lebano se n'era andato a tosare le sue pecore Rachele rubò gli idoli di suo padre Giacobbe si partì furtivamente da Lebano l'Arammeo senza dirgli che voleva fuggire così se ne fuggì con tutto quello che aveva si levò passò il fiume e si diresse verso il monte di Galahad il terzo giorno fu annunziato a Lebano che Giacobbe se ne era fuggito allora gli prese seco i suoi fratelli lo inseguì per sette giornate di cammino e lo raggiunse al monte di Galahad ma Dio venne a Lebano l'Arammeo in un sogno della notte e gli disse guardati dal parlare Giacobbe né in bene né in male Lebano dunque raggiunse Giacobbe or Giacobbe aveva piantata la sua tenda sul monte e anche Lebano e i suoi fratelli avevano piantato le loro sul monte di Galahad allora Lebano disse a Giacobbe che hai fatto partendoti da me furtivamente e menando via le mie figliuole come prigioniere di guerra perché te ne sei fuggito di nascosto e sei partito da me furtivamente e non mai avvertito io ti avrei accomietato con gioia e con canti e al suon di timpano e di cetra e non mai neppure permesso di baciare i miei figliuoli e le mie figliuole tu hai egito stoltamente ora è in potere mio farvi del male ma le Dio del padre vostro mi parlò la notte scorsa dicendo guardati dal parlare a Giacobbe né in bene né in male ora dunque te ne sei certo andato per chi anelavi alla cassa di tuo padre ma per chi hai rubato i miei dei e Giacobbe rispose a Lebano gli è che avevo paura perché dicevo fra me che tu avresti potuto togliere per forza le tue figliuole ma chiunque sia colui presso il quale avrai trovato i tuoi dei egli deve morire in presenza dei nostri fratelli riscontra ciò che è tuo fra le cose mia e prenditelo oh Giacobbe ignorava che Rachele avesse rubato gli idoli Lebano dunque entrò nella tenda di Giacobbe nella tenda di Lea nella tenda delle sue serve ma non trovò nulla e uscito dalla tenda di Lea entrò nella tenda di Rachele o Rachele aveva preso gli idoli li aveva messi nel basto del cammello e vi si era posta sopra a sedere Lebano frugò tutta la tenda e non trovò nulla ed ella disse a suo padre non sabbia il mio signore a male se non posso alzarmi davanti a te perché ho le solite ricorrenze delle donne ed egli Cercoba non trovò gli idoli allora Giacobbe si adirò e contesse con Lebano riprese a dirgli qual è il mio delitto qual è il mio peccato perché tu mi abbia inseguito con tanto ardore tu hai frugato tutta la mia roba chi hai trovato di tutta la roba di casa tua mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi fratelli e giudichano loro fra noi due ecco vent'anni che sono stato con te le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e io non ho mangiato i montoni del tuo grege io non ti ho mai portato quel che le fiere avevano squarciato l'ho subito il danno io tu mi ridomandavi conto di quello che era stato rubato di giorno rubato di notte di giorno mi consumava il caldo di notte il gelo il sonno fuggiva dai miei occhi ecco vent'anni che sono in casa tua ti ho servito quattordici anni per le tue figliuole e sei anni per le tue pecore e tu hai mutato il mio salario dieci volte se l'iddio di mio padre l'iddio di Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato meco certo tu mi avresti ora rimandato a vuoto il Dio ha veduto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la notte scorsa ha pronunziato la sua sentenza e l'Evano rispose a Giacobbe dicendo queste figliuole sono mie figliuole questi figliuoli sono mie figliuoli queste pecore sono pecore mie e tutto quello che vedi è mio e che posso fare oggi a questi mie figliuole o ai loro figliuoli che si hanno partorito or dunque vieni facciamo un patto fra me e te e serva esso di testimonianza fra me e te Giacobbe prese una pietra e la eresse in monumento e Giacobbe disse ai suoi fratelli raccogliete delle pietre ed essi presero delle pietre e ne fecero un mucchio e presso il mucchio mangiarono e l'Evano chiamò quel mucchio Jega Sa'udatha e Giacobbe lo chiamò Galaed e l'Evano disse questo mucchio è oggi testimonio fra me e te perciò fu chiamato Galaed ed anche Mitzpah perché l'Evano disse l'Eterno tenga l'occhio su me e su tutto quanto non ci potremo vedere l'un l'altro se tu affliggi le mie figliuole e se prendi altre mogli oltre le mie figliuole non un uomo sarà con noi ma Bada e Dio sarà testimonio fra me e te l'Evano disse ancora a Giacobbe ecco questo mucchio di pietre è anche il monumento che io eretto fra me e te sia questo mucchio un testimone sia questo monumento un testimone che io non passerò oltre questo mucchio per andare a te e che tu non passerai oltre questo mucchio e questo monumento per far del male l'Idio di Abramo l'Idio di Nahor l'Idio del padre loro sia giudice fra noi e Giacobbe giurò per il terrore di Esacco suo padre poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte ed invitò i suoi fratelli a mangiare del pane essi dunque mangiarono del pane e passarono la notte sul monte la mattina l'Ebano si levò di buon'ora baciò i suoi figliuoli e le sue figliuole e li benedisse poi l'Ebano se ne andò e tornò a casa sua Genesi capitolo trentaduesimo Giacobbe continuò il suo cammino e gli si fecero incontro degli angeli di Dio e come Giacobbe li vide disse questo è il campo di Dio e pose nome a quel luogo Mahanaim Giacobbe mandò davanti a sé dei messi a Esau suo fratello nel paese di Seir nella campagna di Edom e dette loro quest'ordine direte così ad Esau mio signore così dice il tuo servo Giacobbe io ho soggiornato presso l'Ebano e vi sono rimasto fino ad ora o buoi asini pecore servi e serve e lo mando a dire al mio signore per trovare grazie agli occhi tuoi i messi tornarono a Giacobbe dicendo siamo andati dal tuo fratello Esau ed eccolo che ti viene incontro con quattrocento uomini allora Giacobbe fu preso da gran paura ed angosciato e divise in due schiere la gente che era con lui i greggi gli armenti i cammelli e disse se Esau viene contro una delle schiere e la batte la schiera che rimane potrà salvarsi poi Giacobbe disse oh il Dio d'Abramo mio padre il Dio di mio padre Isacco oh eterno che mi dicesti torna al tuo paese e al tuo parentato e ti farò del bene io sono troppo piccolo per essere degno di tutte le benignità che tu hai usate e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo poiché io passai questo giordano col mio bastone ed ora sono divenuto due schiere liberami ti prego dalle mani di mio fratello dalle mani di Esau perché io ho paura di lui e temo che venga e mi dia addosso e non risparmiando né madre né bambini e tu dicesti certo io ti farò del bene e farò diventare la tua progenie come la rena del mare la quale non si può contare da tanta che ce n'è ed egli passò quivi quella notte e di quello che aveva sotto mano prese di che fare un dono al suo fratello Esau duecento capre e venti capri duecento pecore e venti montoni trenta cammelle allattanti coloro parti quaranta vacche e dieci tori venti asine e dieci pulledri e li consegnò ai suoi servi gregge per gregge separatamente e disse ai suoi servi passate dinanzi a me e fate che vi sia qualche intervallo fra gregge e gregge e dette quest'ordine al primo quando il mio fratello Esau ti incontrerà e ti chiederà di chi sei dove vai a chi appartiene questo gregge che va dinanzi a te tu risponderai al tuo servo Giacobbe ed è un dono inviato al mio signore Esau ed ecco egli stesso viene dietro a noi e dette lo stesso ordine al secondo al terzo e a tutti quelli che seguivano i greggi dicendo in questo modo parlerete a Esau quando lo troverete e direte ecco il tuo servo Giacobbe che viene gli stesso dietro a noi poiché diceva io lo placherò col dono che mi precede e dopo vedrò la sua faccia forse mi farà buona accoglienza così il dono andò dinanzi a lui ed egli passò la notte nell'accampamento e si levò quella notte prese le sue due mogli le sue due serve i suoi undici figlioli e passò il guado di Yabok li prese fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva e Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba e quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere gli toccò la connessura dell'anca e la connessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui e l'uomo disse lasciami andare che spunta l'alba e Giacobbe non ti lascerò andare prima che tu m'abbia benedetto e l'altro gli disse qual è il tuo nome ed egli rispose Giacobbe e quello disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto e Giacobbe gli disse ed è palesami il tuo nome e quello rispose perché mi chiedi il mio nome e lo benedisse Quivi e Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse ho veduto il Dio a faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata il sole si levava come gli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dell'anca per questo fino al dì d'oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la commessura dell'anca perché quell'uomo aveva toccato la commessura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia Genesi capitolo trentatreesimo Giacobbe alzò gli occhi guardò ed ecco Esau che veniva avendo secco quattrocento uomini allora divise i figliuoli fra Lea Rachele e le due serve e mise davanti le serve i loro figliuoli poi Lea e i suoi figliuoli e da ultimo Rachele e Giuseppe ed egli stesso passò dinanzi a loro si inchinò fino a terra sette volte finché si fu avvicinato al suo fratello ed Esau gli corse incontro l'abbracciò gli si gettò al collo e lo baciò e piansero poi Esau alzando gli occhi vide le donne e i fanciulli e disse chi sono questi qui che hai teco Giacobbe rispose sono i figliuoli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo allora le serve si accostarono esse e i loro figliuoli e si inchinarono si accostarono anche Lea e i suoi figliuoli e si inchinarono poi si accostarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono ed Esau disse che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrata Giacobbe rispose è per trovare grazia agli occhi del mio signore ed Esau io ne ho assai della roba fratel mio tienti per te ciò che è tuo ma Giacobbe disse no ti prego se ho trovato grazia agli occhi tuoi accetta il dono della mia mano giacché io ho veduto la tua faccia come uno vede la faccia di Dio e tu m'hai fatto gradevole accoglienza dè accetta il mio dono che ti è stato recato perché il Dio mi ha usato grande bontà ed io ho di tutto e insiste tanto che Esau l'accettò poi Esau disse partiamo incamminiamoci e io andrò dinnanzi a te e Giacobbe rispose il mio signore sa che i fanciulli sono di tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano se si forzassero per un giorno solo a camminare le bestie morrebbero tutte dè passi il mio signore innanzi al suo servo e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei fanciulli finché arrivi presso al mio signore a Seir ed Esau disse permettimi almeno che io lasci con te un po' della gente che omeco ma Giacobbe rispose e perché questo? basta che io trovi grazia agli occhi del mio signore così Esau in quel giorno stesso rifece il cammino verso Seir Giacobbe partì alla volta di Sukkot ed edificò una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame e per quello che il luogo fu chiamato Sukkot poi Giacobbe tornando da Padang Aram arrivò sano e salvo alla città di Sike nel paese di Canaan e piantò le tende di rimpetto alla città e comprò dai figliuoli di Emor padre di Sike per cento pezzi di denaro la parte del campo dove aveva piantato le sue tende ed eresse quivi un altare e lo chiamò El Elohet Israel Genesi capitolo trentaquattresimo Ordina la figliuola che Lea aveva partorito a Giacobbe uscì per vedere le figliuole del paese e Sikem figliuolo di Emor Loiveo principe del paese vedutala la rapì si giacque con lei e la violentò e l'anima sua si appassionò per Dina figliuola di Giacobbe egli amò la fanciulla e parlò al cuore di lei poi disse a Emor suo padre dammi questa fanciulla per moglie or Giacobbe udì che egli aveva disonorato la sua figliuola Dina e come i suoi figliuoli erano ai campi col suo bestiame Giacobbe si tacque finché non furono tornati e Emor padre di Sikem si recò da Giacobbe per parlargli e i figliuoli di Giacobbe com'ebbero udito il fatto tornarno dai campi e questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commessa un'infamia in Israele giacendosi con la figliuola di Giacobbe cosa che non era da farsi ed Emor parlò loro dicendo l'anima del mio figliuolo Sikens è unita strettamente alla vostra figliuola dè dategliela per moglie e imparentatevi con noi dateci le vostre figliuoli e prendetevi le vostre figliuole nostre voi abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione timoratevi trafficatevi e acquistatevi delle proprietà allora Sikens disse al padre e ai fratelli di Dina fate che io trovi grazie agli occhi vostri e vi darò quel che mi direte imponetemi pure una grandote e di grandoni e io ve li darò come mi direte ma datemi la fanciulla per moglie i figliuoli di Giacobbe rispossero a Sikens ed a Emor suo padre e parlarono loro con astuzia perché Sikens aveva disonorato Dina loro sorella e dissero loro questa cosa non la possiamo fare non possiamo dare la nostra sorella a un uomo che non è circonciso già che questo per noi sarebbe un opprobrio soltanto a questa condizione acconsentiremo alla vostra richiesta se vorrete essere come siamo noi circoncidendo ogni maschio tra voi allora vi daremo le nostre figliuole e noi ci prenderemo le figliuole vostre abiteremo con voi e diventeremo un popolo solo ma se non ci volete ascoltare e non vi volete far circoncidere noi prenderemo la nostra fanciulla e ce ne andremo le loro parole piacquero ad Emor e a Sikens figliuolo di Emor e il giovane non indugiò a fare la cosa perché portava affezione alla figliuola di Giacobbe ed era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre Emor e Sikens e il suo figliuolo vennero alla porta della loro città e parlarono alla gente della loro città dicendo questa è gente pacifica qui tra noi rimanga dunque pure nel paese e vi traffichi poiché ecco il paese è abbastanza ampio per loro noi prenderemo le loro figliuole per mogli e daremo loro le nostre ma soltanto a questa condizione questa gente consentirà ad abitare con noi per formare un popolo solo che ogni maschio fra noi sia circonciso come sono circoncisi loro il loro bestiame le loro sostanze tutti i loro animali non saranno nostri acconsentiamo alla loro domanda ed essi abiteranno con noi e tutti quelli che uscivano dalla porta della città diedero ascolto ad Emo e a Siken suo figliuolo ed ogni maschio fu circonciso ognuno di quelli che uscivano dalla porta della città ora avvenne che il terzo giorno mentre quelli erano sofferenti due dei figliuoli di Giacobbe Simeone e Levi fratelli di Dina pressero ciascuno la propria spada assalirono la città che si tenia sicura e uccisero tutti i maschi passarono anche a fil di spada Emo e Siken suo figliuolo presero Dina dalla casa di Siken e uscirono I figliuoli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella era stata disonorata e presero i loro greggi i loro armenti i loro asini quello che era in città e quello che era nei campi e portarono via come bottino tutte le loro ricchezze tutti i loro piccoli bambini le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case Allora Giacobbe disse a Simeone ed a Levi voi mi date grande affanno mettendomi in cattivo odore presso gli abitanti del paese presso i cananei e i faresei e io non ho che poca gente essi si raduneranno contro di me e mi daranno addosso e sarò distrutto io con la mia casa ed essi risposero doveva la nostra sorella esser trattata come una meretrice Genesi capitolo trentacinquesimo Iddio disse a Giacobbe levati vattene a Beto dimora quivi e fa un altare all'iddio che ti apparve quando fuggivi dinanzi al tuo fratello Esau allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui toglietegli dei stranieri che sono fra voi purificatevi e cambiatevi i vestiti e leviamoci e andiamo a Beto ed io farò quivi un altare all'iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto ed essi dettero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi e Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso a Sichem poi si partirono e un terrore mandato da Dio invase le città che erano intorno a loro tal che non inseguirono i figlioli di Giacobbe così Giacobbe giunse a Luz cioè Beto che è nel paese di Canaan egli con tutta la gente che aveva seco ed edificò quivi un altare e chiamò quel luogo Hel Beto perché quivi il Dio gli era apparso quando egli fuggiva dinanzi al suo fratello allora morì Deborah Balea di Rebecca e fu sepolta al di sotto di Beto sotto la quercia che fu chiamata Halon Bakuth e Dio apparve allora a Giacobbe quando questi veniva da Padang Aram e lo benedisse e Dio gli disse il tuo nome è Giacobbe tu non sarai più chiamato Giacobbe ma il tuo nome sarà Israele e gli mise nome Israele e Dio gli disse io sono lì Dio onnipotente sì fecondo e moltiplica una nazione anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te e dei re usciranno dai tuoi lombi e darò a te e alla tua progenie dopo di te il paese che detti ad Abramo ed Isacco e Dio risalì di presto a lui dal luogo dove gli aveva parlato e Giacobbe eresse un monumento di Pietro nel luogo dove Dio gli aveva parlato vi fece sopra una livazione e vi sparse su dell'olio e Giacobbe chiamò Beto il luogo dove Dio gli aveva parlato poi partirono da Beto e c'era ancora qualche distanza per arrivare ad Efrata quando Rachele partorì essa ebbe un duro parto e mentre penava a partorire l'allevatrice le disse non temere perché eccoti un altro figliuolo e come la stava per rendere l'anima perché morì fosse nome al bambino Benoni ma il padre lo chiamò Beniamino e Rachele morì e fu sepolta sulla via di Efrata cioè di Bethlehem e Giacobbe eresse un monumento sulla tomba di lei questo è il monumento della tomba di Rachele il quale esiste tuttora poi Israele si partì e piantò la sua tenda al di là di Migdal Eder e avvenne che mentre Israele abitava in quel paese Ruben andò e si giacque con vila concubina di suo padre e Israele lo seppe ora i figliuoli di Giacobbe erano dodici i figliuoli di Lea Ruben primogenito di Giacobbe Simeone Levi Giuda Issacar e Zabulon e figliuoli di Rachele Giuseppe e Beniamino e figliuoli di Bila serva di Rachele Dan e Neftali e figliuoli di Zilpa serva di Lea Gar e Asher questi sono i figliuoli di Giacobbe che gli nacquero in Padam Aram e Giacobbe venne da Isacco suo padre a Manre a Kiriat Arba cioè a Ebron dove Abramo e Isacco avevano soggiornato e i giorni di Isacco furono centottant'anni e Isacco spirò morì e fu raccolto presso il suo popolo vecchio e sazio di giorni ed Esau e Giacobbe i suoi figliuoli lo seppellirono Genesi capitolo trentaseesimo questa è la posterità di Esau cioè Edom Esau prese le sue moglie fra le figliuoli dei Cananei Ada figliuola di Elon Loiteo Hoholibama figliuola di Ana figlia di Zibeon Loiveo e Bashmat figliuola di Ismaele sorella di Nebaioth Ada partorì ad Esau Eliphaz Bashmat partorì Reuel Oholibama partorì Yehush Yalam e Korah questi sono i figliuoli di Esau che gli nacquero nel paese di Canan Esau prese le sue mogli i suoi figliuoli le sue figliuole tutte le persone della sua casa i suoi greggi tutto il suo bestiame tutti i beni che aveva messi assieme nel paese di Canan e se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello giacché i loro beni erano troppo grandi perché essi potessero dimorare assieme e il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a motivo del loro bestiame ed Esau abitò sulla montagna di Seir Esau e Edom questa è la posterità di Esau padre degli Edomiti sulla montagna di Seir questi sono i nomi dei figliuoli di Esau Elifaz figliuolo di Ada moglie di Esau Reuel figliuolo di Bashmath moglie di Esau i figliuoli di Elifaz furono Temam Omar Tsefo Gatham Kenaz Timna era la concubina di Elifaz figliuolo di Esau essa partoria di Elifaz Amalek questi furono i figliuoli di Ada moglie di Esau e questi furono i figliuoli di Reuel Nahat e Zerach Shamat e Mitzah questi furono i figliuoli di Bashmat moglie di Esau e questi furono i figliuoli di Holimbama figliuola di Ana figliuola di Zibéon moglie di Esau essa partoria Esau Yevush Yalam e Korah questi sono i capi dei figliuoli di Esau i figliuoli di Elifaz primogenito di Esau il capo Teman il capo Omar il capo Tsefo il capo Kenaz il capo Korah il capo Gottham il capo Amalek questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figliuoli di Ada e questi sono i figliuoli di Reuel figliuolo di Esau il capo Nahat il capo Zerach il capo Shamach il capo Mizza questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figliuoli di Bashmat moglie di Esau e questi sono i figliuoli di Olibama moglie di Esau il capo Yevush il capo Yalam il capo Korah questi sono i capi discesi da Olibama figliuola di Ana moglie di Esau questi sono i figliuoli di Esau che è Edom e questi sono i loro capi questi sono i figliuoli di Seir lo oreo che abitava il paese Lotam Shobal Sibéon Ana Dishon Etzer e Dishna questi sono i capi degli orei i figliuoli di Seir nel paese di Edom i figliuoli di Lotam furono Hori e Hemam e la sorella di Lot fu Timna e questi sono i figliuoli di Shobal Alvan Manahath Eba Scefo e Oman e questi sono i figliuoli di Zibéon Hayath e Ana e quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre passeva gli asni di Zibéon suo padre e questi sono i figliuoli di Ana Dishon e Olibama figliuola di Ana e questi sono i figliuoli di Dishon Hemdam Eshban Ihitran e Keram questi sono i figliuoli di Etzer Bilham Zahavan e Hakan e questi sono i figliuoli di Dishnam Uzz e Aram questi sono i capi degli orei il capo Lotam il capo Shebol il capo Zibéon il capo Ana il capo Dishon il capo Etzer il capo Disham questi sono i capi degli orei i capi che si ebbero nel paese di Zeir questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcuno ne regnasse nei figliuoli di Israele Bela figliuolo di Beor regnò in Edom e il nome della sua città fu Dinhaba Bela morì e Iobab figliuolo di Zerac di Botsra regnò in luogo suo Iobab morì e Ushman del paese dei Temaniti regnò in luogo suo e Ushman morì e Adad figliuolo di Bedad che sconfisse i medianiti nei campi di Moab regnò in luogo suo e il nome della sua città fu Avith Adad morì a Samla di Masreca e regnò in luogo suo Samma morì e Saul di Rebot sul fiume regnò in luogo suo Saul morì e Ba Anam figliuolo di Akbor regnò in luogo suo Ba Al Anam figliuolo di Akbor morì e Adar regnò in luogo suo Il nome della sua città fu Pau e il nome della sua moglie Mehetabel figliuola di Matred figliuola di Matsahab e questi sono i nomi dei capi di Esau secondo le loro famiglie secondo il loro territorio con i loro nomi il capo Timna il capo Alva il capo Ietheth il capo Olibama il capo Ela il capo Pinon il capo Kenaz il capo Teman il capo Mibzar il capo Magdiel il capo Iram questi sono i capi di Edom secondo le loro dimore nel paese che possedevano questo è Esau il padre degli Edomiti Genesi capitolo trentasettesimo Or Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato nel paese di Canaan e questa è la posterità di Giacobbe Giuseppe all'età di diciassette anni passeva il greggio con i suoi fratelli e giovinetto com'era stava con i figlioli di Bila e con i figlioli di Zilpa moglie di suo padre e Giuseppe e Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto Or Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figlioli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga con le maniche e i suoi fratelli vedendo che il padre amava lui più di tutti gli altri fratelli l'odiavano e non gli potevano parlare amichevolmente Or Giuseppe ebbe un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e questi lo odiarono più che mai ed egli disse loro uditevi prego il sogno che ho fatto noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi quando ecco che il mio covone si levò su tutti e si tene ritto ed ecco i covoni vostri farsi di intorno al mio covone e si inchinarono dinanzi allora i suoi fratelli gli dissero dovrai tu dunque regnare su di noi o dominarci e lo odiarono più che mai a motivo dei suoi sogni e delle sue parole egli ebbe ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo ho avuto un altro sogno ed ecco che il sole la luna e undici stelle mi si inchinavano dinanzi ed egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo sgridò e gli disse che significa questo sogno che hai avuto dovremmo dunque io e tua madre e i tuoi fratelli venire proprio a inchinarsi davanti a te fino a terra e i suoi fratelli gli portavano invidia ma suo padre serbava dentro di sé queste parole ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascere il gregge del padre a Sichem e Israele disse a Giuseppe i tuoi fratelli non sono forse nella pastura di Sichem vieni che ti manderò da loro ed egli rispose eccomi e Israele gli disse va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto va col grece bene e torna a dirmelo così lo mandò dalla valle di Ebron e Giuseppe arrivò a Sichem e un uomo lo trovò che andava errando per i campi e quest'uomo lo interrogò dicendo che cerchi e gli rispose cerco i miei fratelli te dimmi dove siano a pascere il gregge e quel uomo gli disse sono partiti di qui perché li ho uditi che dicevano andiamocene a Dotan e Giuseppe andò quindi in traccia dei suoi fratelli e li trovò a Dotan essi lo scorsero da lontano e prima che gli fosse loro vicino macchinarono ad ucciderlo e dissero l'un con l'altro ecco cotesto sognatore che viene or dunque venite uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne diremo poi che una mala bestia l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani disse non gli togliamo la vita poi Ruben aggiunse non spargete sangue gettatelo in quella cisterna che è nel deserto ma non lo colpisca la vostra mano diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli lo spogliarono della sua veste della veste lunga con le maniche che aveva addosso lo presero e lo gettarono nella cisterna or la cisterna era vuota non c'era puntacqua poi si misero a sedere per prender cibo e avendo alzati gli occhi ecco che videro una carovana di smailiti che venivano da Galahad con i suoi cammelli carichi di aromi di balsamo e di mirra che portavano in Egitto e Giuda disse ai suoi fratelli che guadagneremo a uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue venite vendiamolo agli smailiti e non lo colpisca la nostra mano poiché è nostro fratello nostra carne e i suoi fratelli gli dettero ascolto e come quei mercanti medianiti passavano essi trassero e fecero salire Giuseppe su dalla cisterna e lo vendettero per venti cicli d'argento a quelli smailiti e questi menarono Giuseppe in Egitto or Ruben tornò alla cisterna ed ecco Giuseppe non era più nella cisterna allora egli si stracciò le vesti tornò dai suoi fratelli e disse il fanciullo non c'è più ed io dove andrò io essi presero la veste di Giuseppe scanarono un becco e intrinsero del sangue la veste poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire abbiamo trovato questa veste vedi tu se sia quella del tuo figliuolo o no ed egli la riconobbe e disse è la veste del mio figliuolo una mala bestia l'ha divorrato per certo Giuseppe è stato sbranato e Giacobbe si stracciò le vesti e si mise un cilicio sui fianchi e fece cordoglio del suo figliuolo per molti giorni e tutti i suoi figliuoli e tutte le sue figliuole vennero a consolarlo ma egli rifiutò di essere consolato e disse io scenderò facendo cordoglio del mio figliuolo nel soggiorno dei morti e suo padre lo pianse e quei madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar ufficiale di Faraone capitano delle guardie Genesi capitolo trentottesimo ora venne che in quel tempo Giuda discesse di presso ai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adulam che aveva nome Hira e Giuda vide qui vi la figliuola di un cananeo chiamato Shua e se la prese e convisse con lei ed ella concepì e partorì un figliuolo al quale gli pose nome Her poi ella concepì di nuovo e partorì un figliuolo al quale pose nome Onan e partorì ancora un figliuolo al quale pose nome Shela or Giuda era a Chesib quando ella lo partorì e Giuda prese per Her suo primogenito una moglie che aveva nome Tamar ma Her primogenito di Giuda era perverso agli occhi dell'Eterno e l'Eterno lo fece morire allora Giuda disse a Onan va dalla moglie di tuo fratello prenditela come cognato e suscitano progenie al tuo fratello e Onan sapendo che quella progenie non sarebbe sua quando si accostava alla moglie del suo fratello faceva in modo di impedire il concepimento per non dar progenie al fratello ciò che gli faceva dispiacque all'Eterno il quale fece morire anche lui allora Giuda disse a Tamar sua nuora rimani vedova in casa di tuo padre finché Sela mio figliuolo sia cresciuto perché diceva vadiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli e Tamar se ne andò e dimorò in casa di suo padre passarono molti giorni e morì la figliuola di Shua moglie di Giuda e dopo che Giuda si fu consolato salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna egli con suo amico Hira la Dulamita di quello fu informata Tamar e le fu detto ecco il tuo suocero sale a Tinna a tosare le sue pecore allora ella si tolse le vesti da vedova si coprì di un velo e se ne avvolse tutta e si posse a sedere alla porta di Enaim che è sulla via di Timna poiché vedeva che Shela era cresciuto e non di meno lei non gli era stata data per moglie come Giuda la vide la prese per una meretrice perché si aveva il viso coperto e accostatosi a lei sulla via le disse lasciami venire da te poiché non sapeva che la fosse sua nuora ed ella rispose che mi darai per venire da me ed egli le disse ti manderò un capretto del mio gregge ed ella mi darai tu un pegno finché tu me l'abbia mandato ed egli disse e che pegno ti darò e l'altra rispose il tuo sigillo il tuo cordone e il bastone che hai in mano egli glieli dette andò da lei ed ella rimase incinta di lui poi ella si levò e se ne andò e si tolse il velo e si rimise le vesti di vedova e Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico la dulamita al fin di ritrarre il pegno di mano di quella donna ma egli non la trovò interrogò la gente del luogo dicendo dov'è quella meretrice che stava Enaim sulla via e quelli risposero qui non c'è stata alcuna meretrice ed egli se ne tornò da Giuda e gli disse non l'ho trovata e per di più la gente del luogo mi ha detto qui non c'è stata alcuna meretrice e Giuda disse si tenga pure il pegno che non abbiano a incontrare del disprezzo ecco io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata or circa tre mesi dopo vennero a dire a Giuda Tamar tua nuora si è prostituita e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione e Giuda disse menatela fuori e sia arsa e come la menavano fuori e la mandò a dire al suo socero sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose e disse riconosciti prego di chi siano questo sigillo e questi cordoni e questo bastone Giuda le riconobbe e disse ella è più giusta di me già che io non l'ho data a scela mio figliuolo ed egli non ebbe più relazione con lei or quando venne il tempo in cui doveva partorire ecco che s'aveva in seno due gemelli e mentre partoriva l'undessi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto dicendo questo qui esce il primo ma egli ritirò la mano ed ecco uscir fuori l'altro suo fratello allora la levatrice disse perché ti sei fatta questa breccia per questo motivo gli fu messo nome perez poi uscì il suo fratello che aveva alla mano il filo di scarlatto e fu chiamato Zerac Genesi capitolo trentanovesimo Giuseppe fu condotto in Egitto e Potifar ufficiale di Faraone capitano delle guardie un egiziano lo comprò da quegli smaeliti che l'avevano condotto qui e l'Eterno fu con Giuseppe il quale prosperava e stava in casa del suo signore l'Egiziano e il suo signore vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva Giuseppe entrò nelle grazie di lui e attendeva al servizio personale di Potifar il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli mise nelle mani tutto quello che possedeva e da quel che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa egli ebbe affidato tutto quello che possedeva l'Eterno benedisse la casa dell'Egiziano per amore di Giuseppe e la benedizione dell'Eterno riposò su tutto quello che egli possedeva in casa e in campagna Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non s'occupava più di cosa alcuna tranne del suo proprio cibo or Giuseppe era di presenza avvenente e di bell'aspetto dopo queste cose avvenne che la moglie del Signore di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse giaci di meco ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo Signore ecco il mio Signore non si informa da me di nulla che è nella casa e ha messo nelle mie mani tutto quello che ha egli stesso non è più grande di me in questa casa e nulla mi è vietato tranne che te perché sei sua moglie come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio e benché la gliene parlasse ogni giorno Giuseppe non acconsentì né a giacersi né a stare con lei ora vene che un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non c'era qui alcuno della gente di casa ed essa lo afferrò per la veste e gli disse giaciti meco ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì fuori e quando ella vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito fuori chiamò la gente della sua casa e le parlò così vedete Esha ha condotto in casa un ebreo per pigliarsi il gioco di noi esso è venuto da me per giacersi meco ma io ho gridato a gran voce e come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo ma ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito fuori e si tenne accanto la veste di lui finché il suo signore non fu tornato a casa allora ella gli parlò in questa maniera quel servo ebreo che tu hai portato qui venne da me per pigliarsi gioco di me ma come io ho alzato la voce ho gridato egli mi ha lasciato qui la sua veste e se ne è fuggito fuori quando il signore di giuseppe ebbe intese le parole di sua moglie che gli diceva il tuo servo mi ha fatto questo l'ira sua si infiammò e il signore di giuseppe lo prese e lo mise nella prigione nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re egli fu dunque là in quella prigione ma l'Eterno fu con giuseppe e spiegò a pro di lui la sua benignità cattivandogli le grazie del governatore della prigione e il governatore delle prigioni affidò alla sorveglianza di giuseppe tutti i detenuti che erano nella carcere e nulla si faceva qui senza di lui il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutti quelli che egli intraprendeva Genesi capitolo quarantesimo or dopo queste cose avvenne che il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore il re d'Egitto e Faraone si indignò contro i suoi due ufficiali contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie nella prigione stessa dove Giuseppe stava rinchiuso e il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe il quale gli serviva ed essi rimasero in prigione per un certo tempo e durante una medesima notte il coppiere e il panettiere del re d'Egitto che erano rinchiusi nella prigione ebbero ambedue un sogno un sogno per uno e ciascun sogno aveva il suo significato particolare Giuseppe venuto la mattina da loro li guardò ed ecco erano conturbati e interrogò gli ufficiali di faraone che era con lui in prigione nella casa del suo signore e disse perché avete oggi il viso così mesto e quelli gli risposero abbiamo fatto un sogno e non v'è alcuno che ce lo interpretri e Giuseppe disse loro le interpretazioni non appartengono a Dio raccontatemi i vostri sogni vi prego il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse nel mio sogno ecco mi stava davanti una vite e in quella vite c'eran tre tralci e mi pareva che si germogliasse poi fiorisse ed capoli d'uva matura e io avevo in mano la coppa di faraone presi l'uva la spremei nella coppa di faraone e diedi la coppa in mano a faraone Giuseppe gli disse questa è l'interpretazione del sogno i tre tralci sono tre giorni ancora tre giorni e faraone ti farà rialzare il capo ti ristabilirà nel tuo ufficio e tu darai in mano a faraone la sua coppa nel modo che facevi prima quando eri suo coppiere ma ricordati di me quando sarai felice e simi benigno ti prego parla di me a faraone e fammi uscire da questa casa perché io fui portato via furtivamente dal paese degli ebrei e anche qui io non ho fatto nulla da essere messo in questa fossa il capo dei panattieri vedendo che la interpretazione di giuseppe era favorevole gli disse anch'io nel mio sogno ecco avevo tre canestri di pan bianco sul capo e nel canestro più alto c'era per faraone ogni sorta di vivande cotte al forno e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo giuseppe rispose e disse questa è l'interpretazione del sogno i tre canestri sono tre giorni ancora tre giorni e faraone ti porterà via la testa di sulle spalle ti farà impiccare a un albero e gli uccelli ti mangeranno le carni addosso e avvenne il terzo giorno che era il natalizio di faraone che questi dette un convito a tutti i suoi servitori e fece alzare il capo al gran coppiere e alzare il capo del gran panettiere in mezzo ai suoi servitori ristabilì il gran coppiere nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano di faraone ma fece abbiccare il gran panettiere secondo la interpretazione che giuseppe aveva loro data il gran coppiere però non si ricordò di giuseppe ma lo dimenticò Genesi capitolo quarantunesimo ora venne in capo a due anni interi che faraone ebbe un sogno ed ecco che stava presso il fiume e su dal fiume ecco salire sette vacche di bella apparenza e grasse e mettersi a pascere nella giuncaia e dopo quelle ecco salire dal fiume altre sette vacche di brutta apparenza e scarne e fermarsi presso alle prime sulla riva del fiume e le vacche di brutta apparenza e scarne divorarono le sette vacche di bella apparenza e crasse e faraone si svegliò poi si riaddormentò e sogniò di nuovo ed ecco sette spighe grasse e belle venire su da un unico stelo poi ecco sette spighe sottile e arse dal vento orientale germogliare dopo quelle altre e le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grasse e piene e faraone si svegliò ed ecco era un sogno e la mattina lo spirito di faraone fu conturbato ed egli mandò a chiamare tutti i magi e tutti i savi d'egitto e raccontò loro i suoi sogni ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare a faraone allora il capo dei coppieri parlò a faraone dicendo ricordo oggi i miei falli faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie me e il capo dei panattieri l'uno e l'altro facemmo un sogno nella medesima notte facemmo ciascuno un sogno avente il suo proprio significato or c'era qui vi con noi un giovane ebreo servo del capo delle guardie a lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno e le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli aveva data faraone ristabili me al mio ufficio e l'altro lo fece a piccare allora faraone mandò a chiamare Giuseppe il quale fu tosto tratto fuori della prigione sotterranea egli si rase si cambiò il vestito e venne da faraone e faraone disse a Giuseppe ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare e ho udito dire di te che quando t'hanno raccontato un sogno tu lo puoi interpretare Giuseppe rispose a faraone dicendo non son io ma sarai Dio che darà a faraone una risposta favorevole e faraone disse a Giuseppe nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume quando ecco salir dal fiume sette vacche grasse di bella apparenza e mettersi a pascere nella giuncaia e dopo quelle ecco salire altre sette vacche magre di bruttissima apparenza e scarne tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto e le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche grasse e quelle entrarono loro in corpo e non si riconobbe che vi fossero entrate erano di brutta apparenza come prima e mi svegliai poi vidi ancora nel mio sogno sette spighe venire su da un unico stelo piene e belle ed ecco altre sette spighe vuote sottile e arse dal vento oriettale germogliare dopo quelle altre e le spighi sottili inghiottirono le sette spighe belle io ho raccontato questo ai magi ma non c'è stato alcuno che abbia saputo spiegarmelo allora Giuseppe disse a Faraone ciò che Faraone ha sognato è una stessa cosa e Dio ha significato a Faraone quello che sta per fare le sette vacche belle sono sette anni le sette spighe belle sono sette anni è uno stesso sogno e le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono sette anni come pure le sette spighe vuote arse dal vento orientale saranno sette anni di carestia questo è quello che ho detto a Faraone e Dio ha mostrato a Faraone quello che sta per fare ecco stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto e dopo verranno sette anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese e uno non si accorgerà più di quell'abbondanza del paese a motivo della carestia che seguirà perché questa sarà molto aspra e l'essersi il sogno replicato due volte a Faraone vuol dire che la cosa è decretato da Dio e che Dio lo eseguirà tosto or dunque si provveda Faraone ad un uomo intelligente e savio e lo stabilisca sul paese d'Egitto Faraone faccia così costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i sette anni dell'abbondanza e radunino essi tutti i viveri di queste sette buone annate che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione di Faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei sette anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto e così il paese non perirà per la carestia piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori e Faraone disse ai suoi servitori potremmo noi trovare un uomo pari a questo in cui sia lo spirito di Dio e Faraone disse a Giuseppe giacché il Dio ti ha fatto conoscere tutto questo non v'è alcuno che sia intelligente e savio al pari di te tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini per il trono soltanto io sarò più grande di te e Faraone disse a Giuseppe vedi io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto e Faraone si tolse l'anello di mano e lo mise nella mano di Giuseppe e lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro e lo fece montare sul suo secondo carro davanti a lui si gridava in ginocchio così Faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto e Faraone disse a Giuseppe io sono Faraone e senza te nessuno alzerà la mano il piede in tutto il paese d'Egitto e Faraone chiamò Giuseppe Safanad Peneac e gli dette per moglio Asenat figliola di Potifera sacerdote di Ion e Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto or Giuseppe aveva trent'anni quando si presentò dinanzi a Faraone re d'Egitto e Giuseppe uscì dal cospetto di Faraone e percorse tutto il paese d'Egitto durante i sette anni da abbondanza la terra produsse a piene mani e Giuseppe adunò tutti i viveri di quei sette anni che vennero nel paese d'Egitto e ripose i viveri nelle città ripose in ogni città viveri del territorio circonvicino così Giuseppe ammassò grano come la rena del mare e così gran quantità che si smise di contarlo perché era innumerevole ora avanti che venisse il primo anno della carestia nacquero a Giuseppe due figlioli che a senat figliolo di Potifera sacerdote di On gli partorì e Giuseppe chiamò il primo genito Manasse perché disse i Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre e al secondo perse il nome Efraim perché disse il Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione i sette anni d'abbondanza che erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i sette anni della carestia come Giuseppe aveva detto e ci fu carestia in tutti i paesi ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane poi la carestia si estesse a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò a Faraone per avere del pane e Faraone disse a tutti gli egiziani andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà la carestia era sparsa su tutta la superficie del paese e Giuseppe ha perso tutti i depositi e vendere grano agli egiziani e la carestia si aggravò nel paese d'Egitto e da tutti i paesi si veniva in Egitto da Giuseppe per comprare del grano perché la carestia era grave per tutta la terra Genesi capitolo quarantaduesimo Or Giacobbe vedendo che c'era del grano in Egitto disse ai suoi figlioli perché vi state a guardare l'un l'altro poi disse ecco ho sentito dire che c'è del grano in Egitto scendete colà per comprarsene onde possiamo vivere e non abbiamo a morire e dieci dei fratelli di Giuseppe scessero in Egitto per comprarvi del grano ma Giacobbe non mandò Beniamino fratello di Giuseppe con i suoi fratelli perché diceva che non gli abbia succedere qualche disgrazia e i figlioli di Israele giunsero per comprare del grano in mezzo agli altri che pur venivano poiché nel paese di Canaan c'era la carestia Or Giuseppe era colui che comandava nel paese era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese e i fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono dinanzi a lui con la faccia a terra e Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe ma fece lo straniero davanti a loro e parlò loro aspramente e disse loro Donde venite? ed essi risposero dal paese di Canaan per comprare dei viveri e Giuseppe riconobbe i suoi fratelli ma essi non riconobbero lui e Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto intorno a loro e disse voi siete delle spie siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese ed essi a lui no signor mio i tuoi servitori sono venuti a comprare dei viveri siamo tutti figliuoli di uno stesso uomo siamo gente sincera i tuoi servitori non sono delle spie ed egli disse loro no siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese e quelli risposero noi tuoi servitori siamo dodici fratelli figliuoli di uno stesso uomo del paese di Canaan ed ecco il più giovane è oggi col nostro padre e uno non è più e Giuseppe disse loro la cosa è come v'ho detto siete delle spie ecco come sarete messi alla prova per la vita di Faraone non uscirete di qui prima che il vostro fratello più giovane sia venuto qua mandate uno di voi a prendere il vostro fratello e voi resterete qui in carcere perché le vostre parole siano messe alla prova e si vega se c'è del vero in voi se no per la vita di Faraone siete delle spie e li misi assieme in prigione per tre giorni il terzo giorno Giuseppe disse loro fate questo e vivrete io temo il Dio se siete gente sincera uno di voi fratelli resti qui incatenato nella vostra prigione e voi andate portate del grano per la necessità delle vostre famiglie e menatemi il vostro fratello più giovane così le vostre parole saranno verificate e voi non morrete ed essi fecero così e si dicevano l'un l'altro sì noi fumo colpevoli verso il nostro fratello giacché vedemmo l'angoscia dell'anima sua quando egli ci supplicava e noi non gli demmo ascolto ecco perché ci viene addosso questa angoscia e Ruben rispose loro dicendo non ve lo dicevo io non commettete questo peccato contro il fanciullo ma voi non mi voleste dare ascolto perciò ecco che il suo sangue ci è ridomandato or quelli non sapevano che Giuseppe li capiva perché fra lui e loro c'era un interprete ed egli si allontanò da essi e pianse poi tornò parlo loro e presse di fra loro Simeone che fece incatenare sotto i loro occhi poi Giuseppe ordinò che sempissero di grano i loro sacchi che si mettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provisioni per il viaggio e così fu fatto ed essi caricarono il loro grano sui loro asini e se ne andarono or l'un dessi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino nel luogo dove pernottavano e vide il suo denaro che era la bocca del sacco e disse ai suoi fratelli il mio denaro m'è stato restituito eccolo è qui nel mio sacco allora il cuore venne loro meno e tremando dicevano l'un all'altro chi è mai questo che Dio ci ha fatto e vennero a Giacobbe il loro padre nel paese di Canaan e gli raccontarono tutto quello che era accaduto dicendo l'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattato da spie del paese e noi gli abbiamo detto siamo gente sincera non siamo delle spie siamo dodici fratelli figliuoli di nostro padre uno non è più e il più giovane è oggi con il nostro padre nel paese di Canaan e quell'uomo signore del paese ci ha detto da questo conoscerò se siete gente sincera lasciate presso di me uno dei vostri fratelli prendete quel che vi necessita per le vostre famiglie partite e menatemi il vostro fratello più giovane allora conoscerò che non siete delle spie ma gente sincera io vi renderò il vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese or come si svuotavano i loro sacchi ecco che l'involto del denaro di ciascuno era nel suo sacco essi e il padre loro videro gli involti del loro denaro e furono presi da paura e Giacobbe loro padre disse voi mi avete privato dei miei figliuoli Giuseppe non è più Simone non è più e mi volete togliere anche Beniamino tutto questo cade addosso a me e Ruben disse a suo padre se non te lo rimeno fa morire i miei due figliuoli affidalo a me io te lo ricondurrò ma Giacobbe rispose il mio figliuolo non scenderà con voi poiché il suo fratello è morto e questo solo è rimasto se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio fareste scendere con cordoglio la mia canizia nel soggiorno dei morti Genesi capitolo quarantatreesimo or la carestia era grave nel paese e quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto il padre disse loro tornate a comprarsi un po' di viveri e Giuda gli rispose dicendo quell'uomo ce lo dichiarò positivamente non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi se tu mandi il nostro fratello con noi noi scenderemo e ti compreremo dei viveri ma se non lo mandi non scenderemo perché quell'uomo ci ha detto non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi e Israele disse perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello e quelli risposero quell'uomo ci interrogò partitamente intorno a noi e al nostro parentato dicendo vostro padre vive egli ancora avete qualche altro fratello e noi gli rispondemmo a tenore delle sue domande potevano noi mai sapere che ci avrebbe detto fate venire il vostro fratello e Giuda disse a Israele suo padre lascia venire il fanciullo con me e ci leveremo e andremo e noi vivremo e non morremo né noi né tu né i nostri piccini io mi rendo garante di lui ridomandane conto dalla mia mano se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti io sarò per sempre colpevole verso di te se non ci fossimo indugiati a quest'ora saremmo già tornati due volte allora Israele loro padre disse loro se così è fate questo prendete nei vostri sacchi delle cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono un po' di balsamo un po' di miele degli aromi della mirra dei pistacchi e delle mandorle e pigliate con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi forse fu un errore prendete anche il vostro fratello levatevi e tornate da quest'uomo e lì Dio onnipotente vi faccia trovare grazie ad innanzi a quell'uomo sì che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e beniamino e se debbo essere privato dei miei figliuoli che io lo sia quelli presero dunque il dono presero seco il doppio del denaro e beniamino e levatesi scessero in Egitto e si presentarono dinanzi a Giuseppe e come Giuseppe vide beniamino con loro disse al suo maestro di casa conduci quest'uomini in casa macella e prepara tutto perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno e l'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li menò in casa di Giuseppe e quelli ebbero paura perché erano menati in casa di Giuseppe e dissero siamo menati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta ed ei vuol darci addosso precipitarsi su noi e prenderci come schiavi coi nostri asini e accostarsi al maestro di casa di Giuseppe gli parlarono sulla porta della casa e dissero scusa signore mio noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri e avvene che quando fumo giunti al luogo dove pernottammo aprimo i sacchi ed ecco il denaro di ciascun di noi era alla bocca del suo sacco il nostro denaro del peso esatto e noi l'abbiamo riportato con noi e l'abbiamo portato con noi dell'altro denaro per comprare dei viveri noi non sappiamo chi avesse messo il nostro denaro nei nostri sacchi ed egli disse datevi pace non temete l'idio vostro l'idio del vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi io ebbi il vostro denaro e fatto uscire Simeone lo condusse loro quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe dette loro dell'acqua ed essi si lavarono i piedi ed egli dette del foraggio ai loro asini ed essi prepararono il regalo aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno perché avevano inteso che rimarebbe qui via mangiare e quando Giuseppe venne a casa quelli gli porselo il dono che avevano portato seco dalla casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui egli domando loro come stessero e disse vostro padre il vecchio di cui mi parlaste sta egli bene vive egli ancora e quelli risposero il padre nostro tuo servo sta bene vive ancora e si inchinarono e gli fecero riverenza poi Giuseppe alzò gli occhi vide Beniamino il suo fratello figliuolo della madre sua e disse e questo è il vostro fratello più giovane di cui mi parlaste poi disse a lui e Dio ti sia propizio figliuolo mio e Giuseppe si affrittò ad uscire perché le sue viscere si erano commosse per il suo fratello e cercava un luogo dove piangere entrò nella sua camera e qui vi pianse poi si lavò la faccia ed uscì si fece forza e disse portate il pranzo e fu dunque portato il cibo per lui a parte e per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei per gli egiziani è una cosa abominevole ed essi si misero a sedere dinanzi a lui il primo genito secondo il suo diritto di primo genitura e il più giovane secondo la sua età e si guardavano l'un l'altro con meraviglia e Giuseppe fe loro portare delle vivande che aveva dinanzi ma la porzione di beniamino era cinque volte maggiore di quella di ogni altro di loro e bevero e stettero allegri con lui Genesi capitolo quarantaquattresimo Giuseppe dette quest'ordine al suo maestro di casa riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possano portare e metti il denaro di ciascun dessi alla bocca del suo sacco e metti la mia coppa la coppa d'argento alla bocca del sacco del più giovane assieme al denaro del suo grano ed egli fece come Giuseppe aveva detto la mattina non appena fu giorno quegli uomini furono fatti partire coi loro asini e quando furono usciti della città non erano ancora lontani Giuseppe disse al suo maestro di casa levati va dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti di loro perché avete reso mal per bene non è quella la coppa nella quale il mio signore beve e della quale si serve per indovinare avete fatto male a far questo egli li raggiunse e disse loro quelle parole ed essi li risposero perché il mio signore ci rivolge parole come queste ed io preservi i tuoi servitori dal fare una tal cosa ecco noi ti abbiamo portato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi come dunque avremmo rubato dell'argento e dell'oro dalla cassa del tuo signore quello dei tuoi servitori presso il quale si troverà la coppa sia messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo signore ed egli disse ebbene sia fatto come dite colui presso il quale sarà trovato sarà mio schiavo e voi sarete innocenti in tutta fretta ognuno dessi mise giù il suo sacco a terra e ciascuno aprì il suo e il maestro di casa li frugò cominciando da quello del maggiore per finire con quello del più giovane e la coppa fu trovata nel sacco di beniamino allora quelli si stracciarono le vesti ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di giuseppe il quale era ancora acquivi e si gettarono in terra dinanzi a lui e giuseppe disse loro che azione è questa che avete fatta non lo sapete che un uomo come me ha potere di indovinare giuda rispose che diremo al mio signore quali parole useremo o come ci giustificheremo dio ha ritrovato l'iniquità dei tuoi servitori ecco siamo schiavi del mio signore tanto noi quanto colui mano del quale è stata trovata la coppa ma giuseppe disse mi guardi dio dal far questo l'uomo in mano del quale è stata trovata la coppa sarà mio schiavo quanto a voi risalite in pace dal padre vostro allora giuda si accostò a giuseppe e disse di grazia signor mio permetti al tuo servitore di far uscire una parola al mio signore e non s'accenda l'iratua contro il tuo servitore poiché tu sei come faraone il mio signore interrogò i suoi servitori dicendo avete voi padre o fratello e noi rispondemmo al mio signore abbiamo un padre che è vecchio con un giovane figlio natogli nella vecchiaia il fratello di questo è morto tal che egli è rimasto solo dei figliuoli di sua madre e suo padre l'ama allora tu dicesti ai tuoi servitori menatemelo perché lo vegga con i miei occhi e noi dicemmo al mio signore il fanciullo non può lasciare suo padre perché se lo lasciasse suo padre morirebbe e tu dicesti ai tuoi servitori se il vostro fratello più giovane non scende con voi voi non vedrete più la mia faccia e come fumo risaliti a mio padre e tuo servitore gli riferimmo le parole del tuo signore poi nostro padre disse tornate a comprarci un po' di riveri e noi rispondemmo non possiamo scendere laggiù se il nostro fratello più giovane verrà con noi scenderemo perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi e mio padre tuo servitore ci rispose voi sapete che mia moglie mi partorì due figliuoli l'undessi si partì da me e io dissi certo egli è stato sbranato e non l'ho più visto da allora e se mi togliete anche questo se egli avviene qualche disgrazia voi farete scendere con dolore la mia canizia nel soggiorno dei morti or dunque quando giungerò da mio padre tuo servitore se il fanciullo all'anima del quale la sua è legata non è con noi avverrà come avrà veduto che il fanciullo non c'è egli morrà e i tuoi servitori avranno fatto scendere con cordoglio la canizia del tuo servitore nostro padre nel soggiorno dei morti ora siccome il tuo servitore si è reso garante del fanciullo presso mio padre e egli ho addetto se non te lo ricondurrò sarò per sempre colpevole presso mio padre dè permetti ora che il tuo servitore rimanga schiavo del mio signore invece del fanciullo e che il fanciullo se ne torni con i suoi fratelli perché come farei a risalire da mio padre senza aver me col fanciullo a che io non vega il dolore che ne verrebbe a mio padre Genesi capitolo quarantacinquesimo allora Giuseppe non poteva più contenersi dinanzi a tutti gli astanti e gridò fate uscire tutti dalla mia presenza e nessuno rimase con Giuseppe quando egli si dia conoscere i suoi fratelli e alzò la voce piangendo gli egiziani l'udirono e l'udì la casa di Faraone e Giuseppe disse ai suoi fratelli io sono Giuseppe mio padre vive egli tuttora ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti dalla sua presenza Giuseppe disse ai suoi fratelli dè avvicinatevi a me quelli si avvicinarono ed egli disse io sono Giuseppe vostro fratello che voi vendeste perché fosse menato in Egitto ma ora non vi contristate né vi dolga ad avermi venduto perché io fossi menato qua poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita infatti sono due anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri cinque durante i quali non ci sarà né aratura né messe ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché si è conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con grande liberazione non siate dunque voi che mi avete mandato qua ma Dio egli mi ha stabilito come padre di Faraone signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto affrettatevi e risalite da mio padre e ditali così dice il tuo figliuolo Giuseppe e Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto scendi da me non tardare tu dimorerai nel paese di Koschen e sarai vicino a me tu e i tuoi figliuoli e i figliuoli dei tuoi figliuoli i tuoi greggi i tuoi armenti e tutto quello che possiedi e qui vi io ti sostenrò perché ci saranno ancora cinque anni di carestia onde tu non sia ridotto alla miseria tu la tua famiglia e tutto quello che possiedi ed ecco voi vedete coi vostri occhi e il mio fratello Beniamino vede con gli occhi suoi che è proprio la mia bocca quella che vi parla raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete veduto e fate che mio padre scenda presso qua e gettato sia al collo di Beniamino suo fratello pianse e Beniamino pianse sul collo di lui bascio pure tutti i suoi fratelli piangendo e dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui il rumore della cosa si sparse nella casa di Faraone e si disse sono arrivati i fratelli di Giuseppe il che piacque a Faraone ed ai suoi servitori e Faraone disse a Giuseppe di ai tuoi fratelli fate questo caricate le vostre bestie e andate e tornate al paese di Canam prendete vostro padre le vostre famiglie e venite da me ed io vi darò del meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso del paese tu hai l'ordine di dir loro fate questo prendete del paese d'Egitto dei carri per i vostri piccini e per le vostre mogli conduscete vostro padre e venite e non vi rincresca di lasciare le vostre masserizie perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro e figliuoli di Israele fecero così e Giuseppe diede a loro dei carri secondo l'ordine di Faraone e diede a loro delle provisioni per il viaggio e a tutti dede un abito di ricambio per ciascuno ma a Beniamino dette trecento sicli d'argento e cinque mute di vestiti e a suo padre mandò questo dieci asini carichi delle migliori cose d'Egitto dieci asini carichi di grano e di pane di viveri per suo padre durante il viaggio così licenziò i suoi fratelli e questi partirono ed egli disse loro non ci siano per via delle dispute fra voi ed essi risalirono dall'Egitto e vennero nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre e gli riferirono ogni cosa dicendo Giuseppe vive tuttora ed è il governatore di tutto il paese d'Egitto ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro ed egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per condurlo via allora lo spirito di Giacobbe loro padre si ravvivò e Israele disse basta e il mio figliuolo Giuseppe vive tuttora ed io andrò e lo vedrò prima di morire Genesi capitolo quarantaseiesimo Israele dunque si partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrì sacrifici all'iddio di Isacco suo padre e Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse Giacobbe Giacobbe ed egli rispose eccomi e Dio disse io sono iddio l'iddio di tuo padre non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire e Giuseppe ti chiuderà gli occhi allora Giacobbe partì da Beersheba e i figlioli di Israele fecero salire Giacobbe loro padre i loro piccini le loro mogli sui carri che Faraone aveva mandato per trasportarli ed essi presero i loro bestiame e i beni che avevano acquistato nel paese di Canaan e vennero in Egitto Giacobbe e tutta la sua famiglia con lui egli condusse seco in Egitto i suoi figlioli le sue figliole le figliole dei suoi figlioli e tutta la sua famiglia questi sono i nomi dei figlioli di Israele che vennero in Egitto Giacobbe e i suoi figlioli il primogenito di Giacobbe Ruben i figlioli di Ruben Enoch Pallu Ezron e Carmi i figlioli di Simeone Iemuel Iamin Ohad Iacin Zohar e Saul figliolo di una Cananea i figlioli di Levi Gerson Kehath e Merari i figlioli di Giuda Er Onan Shela Perez Zerac ma Er e Onan morirono nel paese di Canan e i figlioli di Perez furono Ezron e Hamud i figlioli di Issachar Tola Puva Job e Shimron i figlioli di Zabulon Sered Elon e Yalil Codesti sono i figlioli che lea partoria a Giacobbe e a Padangarang oltre Dina figliola di lui i suoi figlioli e le sue figliole erano in tutto 33 persone i figlioli di Gad Siphion Hagi Shuni Ezbon Harry Arodi e Ereli i figlioli di Asher Imna Ziva Sivi Beria Serat la loro sorella e i figlioli di Beria Heber e El-Kiel Codesti furono i figlioli di Zilpa che l'Ebano aveva data a lei a sua figliola ed essa li partoria a Giacobbe in tutto 16 persone i figlioli di Rachele moglie di Giacobbe Giuseppe e Beniamino e a Giuseppe nel paese d'Egitto nacquero Manasse ed Efraim i quali Asenat figliola di Potifera sacerdote di On li partori i figlioli di Beniamino Bela Beker Ashbel Gera Naaman Hei Rosh Mupim Hupim e Hard Codesti sono i figlioli di Rachele che nacquero a Giacobbe in tutto 14 persone i figlioli di Dan Ushim i figlioli di Neftali Yatzil Guni Yetze Shilem Codesti sono i figlioli di Bila che Lebano aveva dato a Rachele sua figliola ed essa li partoria a Giacobbe in tutto sette persone le persone che vennero con Giacobbe in Egitto discendenti da lui senza contare le mogli dei figlioli di Giacobbe erano in tutto 66 e i figlioli di Giuseppe nati in Egitto erano 2 il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70 or Giacobbe mandò avanti a sé Giuda a Giuseppe perché questi lo introducesse nel paese di Goshen e giunsero nel paese di Goshen Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele suo padre e gli si presentò gli si gettò al collo e pianse lungamente sul collo di lui e Israele disse a Giuseppe ora che io muoia pure già che ho veduto la tua faccia e tu vivi ancora e Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre io salirò a informare Faraone e gli dirò i miei fratelli e la famiglia di mio padre che erano nel paese di Canaan sono venuti da me questi uomini sono pastori poiché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno menato seco i loro greggi i loro armenti e tutto quello che posseggono e quando Faraone vi farà chiamare vi dirà qual è la vostra occupazione risponderete i tuoi servitori sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino a quest'ora così noi come i nostri padri direte così perché possiate abitare nel paese di Goshen poiché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori Genesi capitolo quarantasettesimo Giuseppe andò quindi a informare Faraone e gli disse mio padre e i miei fratelli con loro greggi con loro armenti e con tutto quello che hanno sono venuto dal paese di Canaan ed ecco sono nel paese di Goshen e presse cinque uomini di fra i suoi fratelli e li presentò a Faraone e Faraone disse ai fratelli di Giuseppe qual è la vostra occupazione ed essi risposero a Faraone i tuoi servitori sono pastori come furono i nostri padri poi dissero a Faraone siamo venuti per dimorare in questo paese perché nel paese di Canaan non c'è pastura per i greggi dei tuoi servitori poiché la carestia è grave dè permetti ora che i tuoi servi dimorino nel paese di Goshen e Faraone parlò a Giuseppe dicendo tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te il paese d'Egitto ti sta dinnanzi fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese dimorino pure nel paese di Goshen e ne conosci fra loro degli uomini capaci falli sovrintendenti del mio bestiame poi Giuseppe menò Giacobbe suo padre da Faraone glielo presentò e Giacobbe benedisse Faraone e Faraone disse a Giacobbe quanti sono i giorni del tempo della tua vita Giacobbe rispose a Faraone i giorni del tempo dei miei pellegrinaggi sono centotrent'anni i giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e cattivi e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri ai di dei loro pellegrinaggi Giacobbe benedisse ancora Faraone e si ritirò dalla presenza di lui e Giuseppe stabilì suo padre e i suoi fratelli e dette loro un possesso nel paese d'Egitto nella parte migliore del paese nella contrada di Ramses come Faraone aveva ordinato e Giuseppe sostentò suo padre e i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre provvedendoli di pane secondo il numero dei figlioli ora in tutto il paese non c'era pane perché la carestia era gravissima il paese d'Egitto e il paese di Canaan languivano a motivo della carestia Giuseppe ammassò tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava e Giuseppe portò questo denaro nella casa di Faraone e quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan tutti gli egiziani vennero a Giuseppe e dissero dacci del pane perché dovremmo morire in tua presenza già che il denaro è finito e Giuseppe disse date il vostro bestiame e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame se non avete più denaro e quelli menarono a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli dei loro greggi di pecore delle loro mandri di buoi e dei loro asini così fornì loro del pane per quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame passato quell'anno tornarono a lui l'anno seguente e gli dissero noi non celeremo al mio signore che il denaro essendo esaurito e le mandre del nostro bestiame essendo passate al mio signore nulla più resta che il mio signore possa prendere tranne i nostri corpi e le nostre terre e perché dovremmo perire sotto gli occhi tuoi noi e le nostre terre contra noi e le terre nostre in cambio di pane e noi con le nostre terre saremo schiavi di faraone e dacci da seminare affinché possiamo vivere e non moriamo e il suono non diventi un deserto così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto già che gli egiziani venderono ognuno il suo campo perché la carestia li colpiva gravemente così il paese diventò proprietà di faraone quanto al popolo lo fece passare nelle città da un capo all'altro dell'Egitto solo le terre dei sacerdoti non acquistò perché i sacerdoti ricevevano una provisione segnata loro da faraone e vivevano nella provisione che faraone dava loro per questi essi non venderono le loro terre e Giuseppe disse al popolo ecco oggi ho acquistato voi e le vostre terre per faraone eccovi del seme seminate la terra e al tempo della raccolta ne darete il quinto a faraone e quattro parti saranno vostre per la sementa dei campi e per il nutrimento vostro e di quelli che sono in casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini e quelli dissero tu ci hai salvato la vita ci si è dato di trovare grazie agli occhi del mio signore e saremo schiavi di faraone e Giuseppe ne fece una legge che dura fino al ditt'oggi secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per faraone non ci furono che le terre dei sacerdoti che non furono di faraone così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto o nel paese di Goshen vi ebbero dei possessi e vi accrebbero e moltiplicarono oltremodo e Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni e i giorni di Giacobbe e gli anni della sua vita furono 147 e quando Israele si avvicinò al giorno della sua morte chiamò il suo figliuolo Giuseppe e gli disse Dè se ho trovata grazia agli occhi tuoi mettimi la mano sotto la coscia e usami benignità e fedeltà Dè non mi seppellire in Egitto ma quando giacerò con i miei padri portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro ed egli rispose farò come tu dici e Giacobbe disse giuramelo e Giuseppe glielo giurò e Israele voltò al capo del letto e adorò Genesi capitolo quarantottesimo dopo queste cose avvenne che fu detto a Giuseppe ecco tuo padre ammalato ed egli prese seco i suoi due figliuoli in menasse del frame e Giacobbe ne fu informato e gli fu detto ecco il tuo figliuolo Giuseppe viene da te e Israele raccolse le sue forze e si mise a sedere sul letto e Giacobbe disse a Giuseppe lì Dio Onipotente mi apparve a Luz nel paese di Cana mi benedisse e mi disse ecco io ti farò fruttare e ti moltiplicherò e ti farò diventare una moltitudine di popoli e darò questo paese alla tua progenie dopo di te come un possesso perpetuo ed ora i tuoi due figliuoli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei e Frain e Menasse saranno miei come Ruben e Simeone ma i figliuoli che hai generati dopo di loro saranno tuoi essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli quanto alla loro eredità quanto a me allorché tornavo da Padam Rachele morì presso di me nel paese di Canaan durante il viaggio a qualche distanza da Efrata e la seppellei qui vi sulla via di Efrata che è Bethlehem e Israele guardò i figliuoli di Giuseppe e disse questi chi sono e Giuseppe rispose a suo padre sono i miei figliuoli che Dio mi ha dati qui ed egli disse le idee fa che si appressino a me e io li benedirò or gli occhi di Israele erano annebbiati a motivo dell'età sì che non ci vedeva più e Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò e Israele disse a Giuseppe io non pensavo di rivedere più la tua faccia ed ecco e Dio mi ha dato di vedere anche la tua progenie Giuseppe li ritirò di tra le ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra poi Giuseppe riprese ambe due Efraim alla destra e alla sinistra di Israele e Menasse alla sua sinistra alla destra di Israele e li fece avvicinare a lui e Israele stesse la sua mandestra e la posò sul capo di Efraim che era il più giovane e posò la sua mano sinistra sul capo di Menasse incrociando le mani poiché Menasse era il primo genito e benedisse Giuseppe e disse li Dio nel cui cospetto camminarono i miei padri Abramo e Isacco li Dio che è stato il mio pastore da che esisto fino a questo giorno l'angelo che mi ha liberato da ogni male e benedica questi fanciulli siano chiamati col mio nome e col nome dei miei padri Abramo ed Isacco e moltiplichano copiosamente sulla terra or quando Giuseppe vide che suo padre posava la mandestra sul capo di Efraim nebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla sul capo di Efraim e metterla sul capo di Menasse e Giuseppe disse a suo padre non così padre mio perché questo è il primo genito metti la tua mano destra sul suo capo ma suo padre ripusò e disse lo so figlio lo mio lo so anche egli diventerà un popolo e anche egli sarà grande non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui e la sua progeni diventerà una moltitudine di nazioni e in quel giorno li benedisse dicendo per te Israele benedirà dicendoli Dio ti faccia simile ad Efraim e a Menasse e mise Efraim prima di Menasse poi Israele disse a Giuseppe ecco io mi muoio ma Dio sarà con voi e vi ricondurrà nel paese dei vostri padri ed io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli quella che conquistai dalla mano degli amorei con la mia spada e col mio arco Genesi capitolo quarantanovesimo poi Giacobbe chiamò i suoi figlioli e disse adunatevi e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire adunatevi e ascoltate o figlioli di Giacobbe date ascolto a Israele vostro padre Ruben tu sei il mio primogenito la mia forza la primizia del mio vigore eminente indignità ed eminenza di forza impetuoso come l'acqua tu non avrai la preeminenza perché sei salito sul letto di tuo padre allora tu l'hai profanato egli è salito sul mio letto Simeone e Levi sono fratelli le loro spade sono strumenti di violenza non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto non si unisca la mia gloria alla loro radunanza poiché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nel loro malanimo hanno tagliato i garretti ai tori maledetta l'ira loro perché è stata violenta e il loro furore perché è stato crudele io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele Giuda te loderanno i tuoi fratelli la tua mano sarà sulla servizio dei tuoi nemici i figlioli di tuo padre si prostreranno dinanzi a te Giuda è un giovane leone tu risali dalla preda figlio il mio egli si china s'accovaccia come un leone come una leonessa chi lo farà levare lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone del comando di fra i suoi piedi finché giunga colui che darà il riposo e a quale obbidiranno i popoli ed il lega il suo asinello alla vite e il pulletro della sua asina alla vite migliore lava la sua veste col vino e il suo manto col sangue dell'uva egli ha gli occhi rossi dal vino i denti bianchi dal latte Zabulon abiterà sulla costa dei mari sarà sulla costa dove convengono le navi e il suo fianco si appoggerà a Sidon Isaacar è un asino robusto sdraiato fra i tramezzi del chiuso egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno ha curvato la spalla per portare il peso ed è divenuto un servo forzato al lavoro Dan giudicherà il suo popolo come una delle tribù di Israele Dan sarà una serpe sulla strada una cerasta sul sentiero che morde i talloni del cavallo sì che il cavaliere cade all'indietro io ho aspettato la tua salvezza o eterno Gad la saliranno delle bande armate ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà da asce verrà il pane saporito ed ei fornirà delizi reali neftali è una acerva messa in libertà egli dice delle belle parole giuseppe è un ramo d'albero fruttifero un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente i suoi rami si stendono sopra il muro gli arcieri l'hanno provocato e gli ha lanciato dei dardi e l'hanno perseguitato ma l'arco suo è rimasto saldo e le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe da colui che è il pastore e la roccia di Israele dall'iddio di tuo padre che ti aiuterà e dall'altissimo che ti benedirà con benedizioni dal cielo di sopra con benedizioni dall'abisso che giaci di sotto con benedizioni dalle mammelle del seno materno le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne esse saranno sul capo di Giuseppe e sulla fronte del principe dei suoi fratelli beniamino è un lupo rapace la mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie tutti costoro sono gli antenati delle dodici tribù di Israele e questo è quello che il loro padre disse loro quando li benedisse li benedisse dando a ciascuno la sua benedizione particolare poi dette loro i suoi ordini e disse io sto per essere riunito al mio popolo seppellitimi con miei padri nella spelonca che è nel campo di Efron loiteo nella spelonca che è nel campo di Macpela di Rimpetu a Manre nel paese di Canaan la quale Abramo comprò col campo da Efron loiteo come sepulcro di sua proprietà qui vi furono sepolti Abramo e Sara sua moglie qui vi furono sepolti Isacco e Rebeca sua moglie qui vi io seppellì Lea il campo e la spelonca che vi si trova furono comprati dai figlioli di Het quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai suoi figlioli ritorò i piedi entro il letto e spirò e fu riunito al suo popolo Genesi capitolo cinquantesimo allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre e pianse su lui e lo baciò poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre e i medici imbalsamarono Israele ci vollero 40 giorni perché tanto è il tempo che si impiega ad imbalsamare e gli egiziani lo pianzero 70 giorni e quanto i giorni del lutto fatto per lui furono passati Giuseppe parlò alla casa di Faraone dicendo se ora ho trovato grazie agli occhi vostri fate giungere agli orecchi di Faraone queste parole mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto ecco io muoio seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canam or dunque permetti che io salga e seppellisca mio padre poi tornerò e Faraone rispose sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare allora Giuseppe salì a seppellire suo padre e con lui salirono tutti i servitori di Faraone gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto e tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre non lasciarono nel paese di Goshen che i loro bambini i loro greggi e i loro armenti con lui salirono pure carri e cavalieri tanché il cortegio era numerosissimo e come furono giunti all'aia di Atad che er oltre il Giordano vi fecero grandi e profondi lamenti e Giuseppe fece a suo padre un lutto di sette giorni or quando gli abitanti del paese i cananei videro il lutto dell'aia di Atad dissero questo è un grave lutto per gli egiziani perciò fu messo nome Abel Mitzraim a quell'aia che è oltre il Giordano i figliuoli di Giacobbe fecero per lui quello che gli aveva ordinato loro lo trasportarono nel paese di Cana e lo seppellirono nella spelonca del campo di Mecpela che Abramo aveva comprato col campo da Efron lo Itteo come sepolcro di sua proprietà di rimpetto a Mamre Giuseppe dopo che ebbe sepolto suo padre se ne tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre i fratelli di Giuseppe quando videro che il loro padre era morto dissero chissà che Giuseppe non ci porti odio e non ci renda tutto il male che gli abbiamo fatto e mandarono a dire a Giuseppe tuo padre prima di morire dette quest'ordine dite così a Giuseppe e Giuseppe perdona ora a Giuseppe i tuoi fratelli perché ti hanno fatto del male perdona dunque ora il mis fatto dai servi dell'idio di tuo padre e Giuseppe quando gli fu parlato così pianse e i suoi fratelli vennero anch'essi e si prostrarono ai suoi piedi e dissere ecco siamo tuoi servi e Giuseppe disse loro non temete poiché sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro a me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io sostenterò voi e i vostri figlioli e li conforterò. E parlò al loro cuore in quella maniera. Giuseppe timorò in Egitto, egli con la casa di suo padre, e visse centodieci anni. Giuseppe vide i figlioli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figlioli di Machir, figliolo di Menasse, nacquero sulle sue ginocchia. E Giuseppe disse ai suoi fratelli, io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E Giuseppe fece giurare ai figlioli di Israele dicendo, di Dio per certo vi visiterà, allora trasporterete di qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì in età di centodieci anni e fu imbalsamato e posto in una bara in Egitto.